noo 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 signori e signori buonasera bentrovati dunque ev'iniziato è stato ormai è diventato B sono molto contento allora va bene giro così arrivo allora vogliamo preparare una cosa in cucina GERDENODDI benvenuto a compila quindi ciao ciao spero che si senta fatto un po di prove tecniche ma streamlabs ha deciso di non funzionare più per qualche strano motivo impareremo il perché ogni volta sono cose che vanno più smettono di funzionare come va abbiamo saltato la settimana scorsa la live diciamo causa di forza maggiore motivi lavorativi personali eccetera eccetera a parte che tra l'altro la settimana scorsa non avrei avuto anche un altro impegno che ho dovuto rimandare quindi avremmo fatto una cosa alternativa alla live e non relativa alla programmazione quindi avremmo giocato online con con amici e quindi fatto qualcosa di diverso dal dall'usuale però a parte questo ciao what don'ts what don'ts ciao e benvenuto quindi purtroppo la live non c'è stata questa settimana invece ho trovato un po di tempo ho trovato un argomento molto molto sperimentale in realtà perché parliamo di una libreria per lo sviluppo con con delfi che si chiama spring for d che fa ovviamente il verso a spring di java anche se poi non è né somigliante tra virgolette o meglio si si propone come una libreria general purpose ciao valerio benvenuto e si propone come libreria general purpose per fare diciamo delle varie cose quindi ci sono delle collection interessanti cioè delle liste dei contenitori di di oggetti di dati con qualcosa in più rispetto a quello che troviamo di serie nell'ambiente di sviluppo però c'è anche un container per la dependency injection c'è roba per il mocking c'è roba per quindi che ci aiuta per nel caso dovessimo fare degli unit test c'è un orm ci sono delle interfacce tipo lazy c'è lo smart pointer c'è nulla ball ci sono varie implementazioni come dire variegate di cose che prevalentemente troviamo in altri linguaggi che però a differenza di di delfi sono un pochino diverse perché ricordiamo sempre che quando lavoriamo con delfi o con un c++ come dire un c++ builder e linguaggi nativi di questa tipologia non abbiamo un garbage collector e quindi siamo responsabili del di rilascio della memoria quindi tutto quello che facciamo con creando gli oggetti quindi quando allocchiamo dobbiamo anche deallocare preferibilmente a meno di non usare degli spedienti e qui un po ci sono alcune cose della libreria che ci possono venire in aiuto tipo alla parte del come ad esempio dello smart pointer in poche parole l'unica risorsa che abbiamo in un certo senso è frappare i nostri oggetti in qualcosa che si occupa si occupi al posto nostro di rilasciare la memoria quando farlo e quando è sicuro farlo e quando questo può essere fatto in automatico perché non ci sono altri riferimenti non è sempre facile da determinare però come tutti gli sviluppatori diciamo che si abituano a un linguaggio di programmazione all'uso di determinate librerie e determinate prassi chiamiamole così abbiamo le abitudini e quindi le utilizziamo anche se devo dire che ultimamente sto facendo qualche consulente su java un corso c sharp sviluppo javascript un po delfi sto incrociando talmente tante cose dei linguaggi che inizio a mettere doppi apici virgolette dove non vanno e quindi sono un po di po di confusione in testa più po di sequel e quindi a volte faccio un po di confusione questo è l'idea quindi era dare un'occhiata a questa libreria su questa libreria c'è stata addirittura una conferenza dedicata se non ricordo male bergamo bergamo nel 2018 2019 non vorrei sbagliarmi ma dovrebbe essere dovrebbe essere 2019 però siamo molto recente comunque poco prima della pandemia c'è stato una due giorni dove più o meno si è visto quello che la libreria ci mette a disposizione quello che è possibile fare non so perché lo sto dicendo in quanto io di quella conferenza mi ricordo nulla no mi ricordo ecco grosso modo le potenzialità e alcune cose che sono che sono state fatte vedere però l'idea era un po sperimentare e quindi nello spirito del come dire della formula discovery che è sempre un live coding in questo momento di spring sto utilizzando object dataset l'ho letto nell'elenco quindi qualcosa per esporre come dataset un insieme di oggetti quindi quindi valeo se un esperto di spring quindi verrai subito ruolato in realtà com'è che mi è trovato nel gruppo di di facebook di delfi club italia che trovate qui sotto qui c'è lo stemmino guida che se lo cercate su facebook è un gruppo facebook dove sviluppatori delfi italiani si possono un po condividere qualche info eccetera si è parlato di link si è parlato di cose di questo tipo di cose che sono in questo caso specifiche del mondo dotnet quindi link è una cosa assolutamente per chi lavora in dotnet almeno per me è imprescindibile ed è una delle cose che mi manca di più quando lavoro con delfi ovvero il fatto di avere delle liste o comunque delle in realtà liste array qualsiasi cosa che si è numerabile diciamo in linea in linea generale sulla quale si possa andare impostare andare a chiamare dei metodi per tramite delle funzioni definire quelli che sono dei filtri esempio degli ordinamenti e tramite questi metodi quindi partire da qualcosa che viene numerato e che viene a questo punto trasformato senza però che ciò causi inizialmente almeno da subito un effetto cioè l'effetto di questi metodi è partire da un'enumerazione cioè numerazione cos'è intanto è un insieme diciamo di dati da cui noi possiamo estrarre il primo e via via i successivi fino a quando i dati non sono esauriti questo è un po il concetto di di enumerazione quindi partiamo dal primo se c'è ovviamente fino a quando non sono esauriti estraiamo estraiamo quando la fonte ci dice basta quindi ci dà un elemento dopo l'altro quando la fonte dice basta questa operazione si interrompe in delfi è presente un'interfaccia enumerable con una serie di funzionalità prevalentemente poi per supportare i cicli quindi quando noi facciamo un bel ciclo for in quindi non usiamo un indice ma facciamo un for in su un array il primo elemento e successivi ci vengono fuori perché di fatto stiamo a tutti gli effetti a tutti gli effetti usando le numerazioni ovvero verificando se ci sono ancora dati e prendendo il primo elemento il secondo e così via fino a esaurimento in spring 4d ci sono queste collection e queste estensioni di enumerable quindi ci sono delle numerazioni non sono tutte o completamente basate questo è quello che mi ricordo un po della conferenza per fare un po di introduzione non sono tutti basati sulle sulle collection di delfi cioè sono parallele diciamo in certi casi sono delle reimplementazioni che assomigliano il più possibile in modo che se io dovessi scegliere ad esempio di passare da come dire dalle versioni delfi incorporata le versioni di spring 4d mi basta includere le unit e si cerca di minimizzare al massimo la quantità di codice da modificare detto questo dicevo queste numerazioni hanno queste feature ad esempio per poter aggiungere delle where per poter fare ad esempio dei reverse e la magia qual è che tutti questi metodi si applicano a qualcosa di enumerabile quindi una lista di oggetti un array però potrebbe anche essere una query su un database che ti restituisce il primo record dei successivi quindi ciò che è numerabile non è ciò che può essere indicizzato può essere ciò che è numerabile qualsiasi fonte da cui noi possiamo estrarre un elemento alla volta fino alla fine questi metodi cosa fanno ad esempio i metodi where aggiungono a un'enumerazione un filtro quindi immaginate una catena dove da un'enumerazione se ne crea una nuova che estrae i dati dalla precedente cioè applicare una where un filtro nell'enumerazione di oggetti appartenenti a un tipo che definiamo noi quindi possiamo metterci dentro un t customer un t product quello che vogliamo otteniamo un'altra numerazione cioè otteniamo di nuovo un oggetto molto probabilmente spesso un'interfaccia in modo che non dobbiamo preoccuparci di di allocarla che cosa fa che estrae di nuovo un elemento alla volta fino esaurimento questo elemento però supponiamo la where come si comporta un'enumerazione che recupera dall'enumerazione precedente i valori applica un filtro e se il filtro è soddisfatto quello diventa il nostro elemento successivo se invece non il filtro non è soddisfatto quindi la funzione che andiamo a definire su che lavora su ogni elemento come la mappa degli arei di javascript per intenderci come la where di link quindi è tutto identico se non soddisfa quel valore non viene non viene restituito quindi se non ci sono valori ad esempio che soddisfano il filtro noi diremo che la numerazione è terminata quindi immaginate un po' questa questa catena tipo quando non so se avete presente in realtà è l'esempio più più assurdo però mi viene metto il film bomber con bud spencer quando gli si incendia la palestra e devono e fanno comunque vanno a spegnere l'incendio coi secchi e se li passano man mano quindi le numerazioni con dei metodi che producono altre numerazioni vedetele un po come una serie di oggetti che si passano tra di loro dei riferimenti per restituirle a un'ultima istanza e all'interno ovviamente di questa catena noi possiamo fare delle conversioni tipo partire da un oggetto restituirne un altro fare dei filtri o in certi casi degli ordinamenti quando vogliamo per così dire cambiare l'ordine con cui questi oggetti vengono sostituiti non sempre questa operazione comporta il recuperare tutti gli elementi e poi farci sopra come dire ad esempio un filtro cioè cosa vuol dire che se noi lavoriamo con un'enumerazione ci applichiamo una where otteniamo un'altra numerazione quindi un'altra fonte che possiamo scandire dal primo all'ultimo elemento ma non è che la where fa sì che dalla prima fonte otteniamo tutti gli oggetti e poi li andiamo a filtrare quando noi chiediamo all'enumerazione filtrata un elemento questa chiede all'altra numerazione il prossimo elemento e poi decide se il filtro è soddisfatto lo passa altrimenti no cioè è un po come estrarre qualcosa da una fonte e aggiungercene un'altra in coda in modo che la richiesta di un elemento si traduca in una richiesta di un elemento alle numerazioni successiva in modo che un demand noi li possiamo anche tirare fuori uno alla volta questo cosa vuol dire che ad esempio se noi abbiamo una lista di elementi e vogliamo filtrarli normalmente con dei cicli for cosa faremmo ci creiamo la lista completa ci creiamo una lista vuota cicliamo la prima la lista di origine tutti gli elementi che ci piacciono li teniamo li mettiamo nella lista vuota andandola a riempire e quelli che non ci piacciono li scartiamo alla fine scartando la prima lista abbiamo la seconda con dentro gli elementi questo però comporta di fare un ciclo di fare due cicli ma in questo caso un ciclo ci comporta di prendere tutti gli elementi della prima lista e di salvarli in qualche modo quindi andare a occupare lo spazio che contenga tutti gli elementi prima del filtro fare un ciclo creare parallelamente una seconda lista con gli elementi del filtro e poi scartare la prima mentre in realtà potremmo tranquillamente fare questa operazione in maniera congiunta ovvero partire da zero recuperare dalla nostra fonte dati un singolo oggetto decidere se soddisfo meno un filtro quindi passarlo avanti nella catena oppure scartarlo e via via fino a tutti gli altri oggetti quindi questo potrebbe darci questo approccio con queste numerazioni ci dà anche un potere in più il fatto di eventualmente poter usare meno memoria perché eventualmente lavoriamo con un elemento solo alla volta potremmo anche se può semplificare il codice perché noi scriviamo list originale punto where elemento maggiore di 3 se vogliamo maggiore di 10 qualcosa del genere oppure pare dispari cose di questo tipo possiamo combinarle possiamo concatenarle quindi possiamo anche semplificare sia il codice ma anche l'esecuzione facendo meno cicli for e quindi lavorando in una maniera un pochino più smart da questo punto di vista ecco la libreria spring 4d nelle collection ci offre questo questa tipologia di come dire di approccio in maniera un po semplificata nel senso che facendo un parallelismo potremmo paragonarlo a ciò che abbiamo in link anche se non è proprio così perché comunque link è una è una tecnologia più più avanzata cioè integrata nel codice sorgente nel compilatore quelle che andiamo a creare sono delle espressioni quindi sono come dire elementi numerabili perché ogni espressione poi viene eseguita e traduce quello che viene fatto in un risultato quindi noi potremmo considerare queste numerazioni di screen 4d qualcosa simile a link to object se facciamo un parallelo con dotnet quindi questo è un po la questa un po la teoria e oltre la collection c'è dependency injection c'è un container quindi c'è una parte per che ci è utile per gestire le dipendenze del nostro progetto quando il nostro progetto viene codificato noi possiamo scegliere per se fare il solito come dire classe che fa 20.000 cose che non è mai un bene o mettere la logica all'interno delle case di interfaccia utente oppure essere anche in questo caso un po più smart e dividere la logica in in servizi rappresentati da interfacce e istruire un un oggetto a creare le istanze per questi servizi in base a una configurazione l'esecuzione di fito della lista in screen 4d più veloce di quella con ciclo classico può può essere in alcuni casi potrebbe esserlo e potrebbe in un certo senso anche occupare meno memoria dipende diciamo che qui l'obiettivo non è legato a all'ottimizzazione in sé perché questo dipende anche un po da come dire da dove vengono i dati e come viene utilizzata l'enumerazione ci supponiamo di invertire un numero di avere un array trattarlo come entità numerabile cioè che possiamo le implementazioni del servizio si che possiamo che da cui possiamo estrarre ciao oasis ciao sandro che non mi sono salutato ho visto il commento ma mi è venuto in mente che non c'era un commento precedente quindi cioè se abbiamo un array vogliamo numerarlo per invertire l'ordine io credo che sia indispensabile da quell'array qualsiasi numerazione prendere tutti i valori in una cache e poi restituire una alla volta partendo però dall'ultimo andando a ritroso verso il primo questo vuol dire che grosso modo un ciclo for in un modo nell'altro viene fatto c'è il ciclo for che alla fine è un'estrazione dell'enumerazione quindi diciamo che non credo che ci sia nella maggior parte dei casi una velocità diversa in maniera sensibile quello che però può esserci è una semplificazione molto estrema del codice e anche un occupazione di memoria minore e il codice più leggibile questo è un po il tipo sul sul vantaggio prestazionale secondo me dipende da caso a caso quindi adesso li parliamo in maniera del tutto teorica però vediamo un po siccome arriva con gli esempi vediamo gli esempi che vengono fatti più che altro per capire cioè la vera forza anche nel lato dotnet di link è il fatto di creare delle espressioni che partendo da un qualcosa di numerabile che non interessa poi se una lista di oggetti o si riescono a creare delle appunto delle espressioni che rappresentano un'operazione che dal momento in cui si va a fare un ciclo for oppure a prendere ad esempio primo elemento l'ultimo elemento fare una lista un array un dizionario con gli elementi viene eseguita e svolge questo tipo di operazione di andare a dalla come dire dalla fonte di partenza poi perché lì poi che viene avviene la recupero dei dati i dati che interessano cioè il vantaggio è nella sintassi leggibile e nel fatto di poter scrivere codice come dire molto più espressivo invece che andare a fare un sacco di cicli perché nel momento in cui noi vediamo questi cicli se vogliamo sapere il motivo per cui li facciamo ovvero filtrare è un'operazione che noi capiamo nel momento in cui vediamo che c'è un ciclo vediamo magari che c'è un if che scarta alcune come dire alcune alternative quindi da lì analizzando il codice capiamo il motivo per cui stiamo passando da non so un array a un altro mettendoci alcuni elementi altre no cioè alla fine quello che vediamo è leggiamo il codice lo interpretiamo diciamo ah ma qui stai facendo un filtro nel caso di link o di questi operatori che ci sono sulle collection di spring 4d questa cosa è proprio scritta così cioè parto da questa lista filtro filtro questi elementi la rovescio e prendo il primo elemento oppure prendo questa lista estraggo da una serie di oggetti un non so che sono dati di studenti restituisco un'enumerazione di quelli che sono i voti degli studenti e poi faccio un account e conto i voti oppure faccio una sum e faccio una somma faccio un max e trovo il massimo cioè scrivo del codice che dice esattamente quello che viene estratto da quel set di informazioni che abbiamo a disposizione quello che fa è scritto non è una cosa da interpretare leggendo il codice ed è un vantaggio alla fine non indifferente anche perché magari in un ciclo ci si può sbagliare se usiamo un indice magari alle volte non stiamo attenti count più 1 count meno 1 io ho fatto delle applicazioni dove ad esempio non ho mai utilizzato cicli perché i cicli li ho implementati una volta solo in un pattern che era un visitor quindi ho creato un pattern dove dato un insieme di elementi lui faceva il ciclo e mi chiedeva esternamente cosa volevo fare con ognuno di quegli elementi quindi il codice quindi ogni volta che ho bisogno di fare qualcosa di sopra richiamavo avevo la mia il mio array di oggetti richiamavo questo visito le dicevo per ogni elemento devo fare questo e il codice risultava molto molto più leggibile questo è stato fatto con delfi set a suo tempo quindi una versione molto molto vecchia di delfi in questo caso nelle versioni nuove noi abbiamo disposizioni generics e quindi alcune di queste funzioni sono disponibili nella proprietà della tstringlist non so bene di quali funzioni cioè qualcosina in giro c'è però adesso magari vediamo un po anche i demo della libreria così vediamo come utilizzarla perché quello che ho letto comunque che viene detto anche di questa libreria è che dentro ci sono tante cose però non è un monolite cioè ci sono varie implementazioni che possono servire per vari tipi di applicazioni per varie e per vari ambiti però noi una volta che scarichiamo i file essendo poi la maggior parte siano degli oggetti a runtime cioè comunque l'estensione dell'rtl dell'api quindi grossomodo possiamo importare la unit che ci interessa e usare le funzioni che ci interessano ed eventualmente scartando le altre sono abbastanza come dire suddivise e questa è una cosa anche carina perché magari se qualcosa ci interessa e qualcosa no non siamo costretti ad avere delle dipendenze da elementi che magari non utilizziamo se voglio usare il container per dipendenze lo uso se non voglio non lo uso quindi possiamo in qualsiasi momento decidere come come gestirci le varie cose quindi proviamo intanto a vedere una cosa allora andiamo a vedere c'è il sito ufficiale di spring adesso cambiamo videata così vediamo che voi vedete qualcosa giustamente se non vedete niente e in questo caso non è su github è una delle poche librerie ma è su bitbucket che è il sito di atlassian sempre se lo è ancora che è stato comprato da non mi ricordo chi verrà forse ancora loro gira quindi dai produttori anche del software su stri ad esempio che lavora su git quindi qui abbiamo i sorgenti comunque è un prodotto open source quindi è perfettamente compatibile con c'è un google group non so se è ancora attivo perché se non ricordo male i google group sono stati chiusi diciamo che qui questa pagina sarebbe un pochino da aggiornare una cosa aggiornata è la current version nella conferenza si parlava anche di una versione 2.0 ma essendo come dire avendo molte breaking change perché questa mi ricordo che le prime volte che l'ho compilato ha dato anche un pochino di warning e quindi non è proprio cioè abbraccia un sacco di versioni di delfi quindi ci sono dei compromessi da un po' da fare e quindi andrebbe un po' come dire ottimizzata da quel punto di vista però ci lavora prevalentemente steven glenck che è uno sviluppatore delfi di lungo corso che fa anche un sacco di post interessanti soprattutto sugli insight del linguaggio qui abbiamo il sorgente quindi dovremmo scaricarci intanto questa roba qui io in realtà non mi ricordo se l'avevo già scaricato ma nell'eventualità me lo riscarico perché sono passati è passato un sacco di acqua sotto i ponti ciao double f se ho detto se ho detto bene benvenuto o benvenuta secondo dei casi poi mi dirai mi dirai tu stiamo cercando di analizzare le caratteristiche di una libreria sul tree o addirittura vuole in vs code di una libreria general purpose che si chiama appunto spring4d per lo sviluppo di applicazioni in questo caso in linguaggio delfi io userei quasi git e basta quindi vado qui dove ho il mio code pubblic secondo me avrò da qualche parte sicuramente esatto una versione precedente però la riscriviamo così siamo più stiamo più sicuri perché magari qualche provetta magari in passato l'ho fatta ma apriamo una command line qua sopra benvenuto 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 grazie benvenuto e andiamo a vedere facciamo un clone del dei sorgenti spero che non mi chieda autenticazione nulla no perché non ho un account su quel sito però se è public dovrebbe scaricarci un po un po tutta la roba quindi scaricato scaricato mi dimentico sempre che fa giustamente una fa una sottocartella quindi ok in realtà qui devo chiudere se no ho già messo un doppio underscore non lo sapevo mi dimentico sempre che la sottocartella giustamente ce la fa in automatico questa versione più vecchia poi la elimino così facciamo prima quindi ci siamo scaricati in sorgente c'è anche un build helper volendo ma in alternativa possiamo andare qui nei vari package aprirci questo delfi 11 e poi fare la nostra compilazione guardavo questo marshmallow che roba è che mi sembra di non averlo mai visto scusate un po di curiosità è l'orm ok è l'orm è l'orm di del buon buona sapersi quindi non non è al corrente del poi tra l'altro stavo controllando che mi sono dimenticato di rilanciare la nostra musica in background teniamo bassa però quindi abbiamo i nostri sorgenti andiamo a compilarli quindi lanciamo il nostro bravo delfi 11 e andiamo un po a vedere quello che quello che succede comparirà qui comparirà il sistema un po lento perché c'è in particolare obs che sta tenendo il 50 per cento della cpu in questo momento quindi è molto e molto esoso come si suol dire però non lo vedo apparire sono sicuro di averlo lanciato a eccolo passo qui ok e quindi ci andiamo ci andiamo ci andiamo ci andiamo ci andiamo ad aprire il nostro sorgente quindi qui in public spring for delfi abbiamo i packages abbiamo del film dc abbiamo un bel project group andiamo intanto a vedere di fare una compilazione c'è qualcosa anche per il design time vedo perché c'è anche un package design time faccio un build all sulla fiducia sperando che non ci siano siccome oggi è uscita una patch sperando di non trovare problematiche di qualche tipo dovrebbe tra l'altro compilare una cartella di dcu e il suggerimento del dell'autore di steven è quello di comunque fare riferimento ai dcu compilati quindi test insight ok la parte di test manca test insight come tool dovrei averlo installato però non ce l'ho però diciamo che questa parte comunque al momento non mi interessa quindi possiamo lasciarla un attimo così e siamo a posto quindi compilato abbiamo compilato non voglio salvare nulla al momento dovrebbe averci prodotto qui nel source tutti i dcu dove andrà a buttarli qui sotto magari dcu source no questo è il sorgente del build library del fium dc win32 debug direi che dovrebbero essere qui chiaramente linkare dcu qual è l'utilità intanto abbiamo un percorso da indicare dove ci sono già i file semi compilati e quindi possiamo renderla compilazione ovviamente molto più veloce rispetto a quello che otterremmo andando direttamente in questo caso sul source oltre al fatto che sono tutti nella stessa cartella quindi andiamo ad aggiungerci il nostro library forse conveniva compilare anche la parte di release non ci ho pensato però vabbè intanto al momento dobbiamo solo testare come dire un po' l'ufficio della libreria niente di più quindi poi andremo a vedere anche i samples per farci un'idea c'è molta dependency injection quindi spendemos no c'è anche qualcos'altro quindi demo collection ok in questo modo vediamo anche un po' le caratteristiche della libreria è un'ora che sto girando tra queste cartelle poi adesso mi deciderò perfetto andiamo a prendere questo path e lo mettiamo nelle nostre opzioni di defi nel percorso di ricerca ovvero nel library path di win32 debug dcu puoi cercare qui ok aggiungiamo questo poi lo aggiungerei probabilmente anche qui che magari potrebbe essere utile forse aggiungere entrambi i percorsi uno con il source l'altro con debug dcu ma vabbè nel frattempo vediamo vediamo un attimo cosa otteniamo partendo da qui ehm samples quindi spring demos demo project group è già aperto in pompa magna con con mi piacerebbe appunto partire dalle collection però dalla parte dello stack ok c'è questo simpatico esempio dove ci sono concatenamenti primo elemento ultimo elemento il quinto ci sono diverse operazioni andiamo a vedere un po' il codice adesso va bene che è il grandicello ma possiamo anche ridurlo anche se preferirei anche se preferirei preferirei prendere questo come spunto e farne uno mio quindi vediamo se riusciamo magari mi invento mi invento qualcosì in un'applicazione console questo me lo tengo da parte perché sicuramente mi ehm mi sarà utile per prendere spunto e avere il codice però l'idea è sempre quella di eventualmente sperimentarcelo un po' anche per come dire per gli affari nostri quindi andiamo a dargli un'occhiatina nel momento in cui ci serve e poi vediamo un po' come si usano quindi io chiudo tutto e faccio qualcosa da zero perché così possiamo anche in qualche modo come dire ragionarci e fare un po' di esperimenti quindi ring for delfi fermati lì che facciamo s4d allora proviamo ad esempio le collection allora facciamo così s4d punto collections uso lo stesso nome anche per il programmino se poi vorremmo fare altre live su altre feature le potremmo fare e quindi quindi che andiamo a fare vorrei provare un po' le feature tipiche come dire degli numeratori e vedere anche un pochino che cosa ci si potrebbe buttare dentro all'interno di quello che può essere un numeratore quindi una coppia quindi uses string allora andiamo a vedere se abbiamo anche della della documentazione tra le altre cose quindi sono un po' lento perché è la prima volta che la riuso dopo un sacco di tempo quindi allora diciamo che abbiamo questa unit da includere che dovrebbe trovarla tranquillamente che ci consente di usare intanto alcune delle funzionalità so che c'è anche adesso vado a navigare un pochino dovrebbe essere c'è anche un help documents c'è la style guide c'è documentation quindi questa ce la potremmo anche guardare dove oddio qui come wiki vediamo la wiki se c'è qualcosa ci sono collections così vediamo off quindi così vediamo un pochino di quello che ci offre questa simpatica libreria ci sono dentro i collection i collection t list list di t quindi anche qui c'è pieno supporto dei generics sono seduto male avrei preferito il bevi ma adesso mi metto più composto così sono più in effetti mi viene anche il doppio mento quindi bevo anche un goccio d'acqua perché ok quindi qui vediamo una carrellata delle queue il set quindi ci sono dentro un pochino di collection quelle che poi tipicamente troviamo anche in delfi ma come dice qui implementano tutti questo innumerable che ha la sua trattazione a parte e che segue i discorsi che facevamo prima nell'introduzione quindi qui vi spiega tutti quindi le versioni non generiche sono una collection di t-value t-value è un po' il dynamic di c-sharp no non proprio ho fatto un esempio improprio diciamo è un po' il tipo che se utilizzato accetta qualsiasi valore quindi è un po' l'equivalente del variant è un variant moderno per così dire quindi il variant era legato allo standard com è un vecchio è un retaggio del passato mentre il t-value è un segnaposto per qualsiasi valore quindi di fatto se faccio una lista generica è una lista di t-value vuol dire che dentro posso buttarci interi string e tutto quello che voglio se invece uso la forma con generics con il t ovviamente questo t è il segnaposto del tipo che voglio buttare qui dentro quindi se faccio un numerable di integer dentro ovviamente ci saranno solo integer se è una lista di integer l'add eccetera degli integer l'elemento iesimo mi darà un integer eccetera 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 qui c'è la spiegazione di tutte le strutture date di cosa di cosa a cosa corrispondono ma direi che sta che le code non c'è bisogno di spiegare di cosa si tratta mi interessa il set simile al set di delphi per vedere come diciamo lavora nelle combinazioni questo è già più interessante di per sé mi ha citato Enumereable T però dov'è la pagina che parla di Enumereable T probabilmente qua si impiega un po' ad aggiornare il sito che è colpa del del buon no l'OBS sta tenendo una qui abbiamo ok questa questa diciamo un po' il cuore di queste collection se vogliamo indicarlo e dentro ha tutte queste simpatiche funzionalità all any ad esempio per chi ad esempio è abituato a lavorare con link le troverà istantaneamente familiare ad esempio con all vedete che io Enumereable T fate i conti che può essere un array di T ovviamente il tipo quindi interi string quello che vogliamo quindi qualsiasi collection che abbiamo visto prima uno stack una coda un array una lista può essere enumerabile quindi possiamo estrarre inserire ed estrarre dei valori numereable più che altro ci interessa nella lettura a che fare con la lettura questi sono tutti i metodi che possiamo applicare cioè all ad esempio cosa dice mi passi un predicato che accetta un valore di tipo T predicato è un tipo che probabilmente è associato a una procedura a cui viene passato un valore di tipo generico di tipo T ovvero se facciamo una lista di interi possiamo da questa lista siccome implementa Enumerable chiamare il metodo all che accetta una procedura in questo caso una funzione questa predica se è una lista di interi vuol dire che questa funzione accetterà un parametro di tipo intero e noi probabilmente gli dovremmo dire se soddisfa o meno una condizione cioè andremo a inserire all'interno la condizione che in questo caso dà un true se è rispettata forse non è rispettata all vuol dire che la funzione ci dà un true o un false di ritorno se tutti gli elementi di questa numerazione supportano o meno superano diciamo il filtro se tutti gli elementi lo supportano allora ci darà true se qualche elemento non passa il filtro ci darà un false qui ad esempio non so abbiamo una lista di interi vogliamo verificare che siano tutti pari possiamo implementare il concetto di verifica parità come funzione che passiamo la all prenderà questa funzione ci dirà true se ci dà true per tutti oppure per qualcuno no se qualcuno no ovviamente il risultato sarà false any ci dice se c'è almeno un elemento nella nostra numerazione any con un predicato di nuovo come all ci fa specificare una funzione che dice se ogni elemento va preso scartato e quindi un any sta a indicare se almeno un elemento supera la condizione che andiamo a definire quindi qui non si tratta cioè qui dentro questa any ci sarà chiaramente un ciclo che per ogni elemento richiama la funzione che è stata passata e la prima che dice da un esito negativo lo stituirà false altrimenti andrà fino in fondo e darà true se tutti gli elementi soddisfano il filtro quindi è come prendere cioè non è più veloce di un ciclo for è come prendere un ciclo for incapsularlo all'interno di un metodo dove nel ciclo for la parte che dice se questo elemento va tenuto scartato la passiamo noi come parametro quindi il ciclo for sta qui dentro noi cambiamo solo la clausola tra virgolette c'è un ma nel senso che quello che noi passiamo è un metodo anonimo trattandosi di metodo anonimo vuol dire che ad esempio può catturare il contesto cioè vedere le variabili che risultano nello scope nel punto in cui la funzione è dichiarata e nel momento in cui la andiamo a passare a questo metodo any quindi vuol dire la logica che sta in questo any che fa un ciclo utilizza dei valori che non avrebbe modo di vedere se non fosse che il metodo anonimo che noi creiamo e li passiamo all'interno li rende disponibili quindi il concetto non è proprio sulle prestazioni ma il concetto è rendere il codice il più leggibile possibile poi c'è concatenazione contiene un valore l'elemento che si trova in una certa posizione dammi il primo elemento oppure il primo che soddisfa una certa funzione il primo elemento o il default che vuol dire il primo indicato così vuol dire che se abbiamo un primo elemento tutto ok ci dà il valore se non c'è ci dà un errore il default ci dà il valore di default in base al tipo che noi andiamo a definire quindi se noi diciamo ho un array di interi il first of default vuol dire ti do il primo se l'array fosse vuoto ci dà il default dell'intero ovvero uno zero first of default con un default value ci consente di trovare il primo se non c'è di avere comunque il default da restituire al posto del valore non trovato diciamo del primo valore poi abbiamo le varie fusioni con il default e anche il predicato quindi questo first of default è come se noi mettessimo una where e dei valori che soddisfano quella where prendessimo il primo elemento però non dobbiamo combinare where first of default non possiamo fare tutto con un metodo last of default max min ci sono gli ordered quindi dove noi andiamo a passare ad esempio un comparatore l'order implementa l'algoritmo di ordinamento degli elementi che stanno dentro questa collection l'unica cosa che non è in grado probabilmente di fare è sapere qual è l'elemento minore e l'elemento maggiore tramite questa interfaccia compare noi possiamo istruirlo su come fare il confronto quindi all'interno di un enumerable che contiene valori di qualunque tipo la lista è in grado di cioè la collection è in grado di farsi istruire dall'esterno come confrontarli ma l'algoritmo di ordinamento è già incorporato all'interno di questo metodo semplicemente passiamo dall'esterno il il comparatore di elementi che dice questo è più piccolo questo è più grande oppure sono uguali secondo di questo risultato internamente ovviamente la collection riuscirà a non va a ordinare gli elementi ma ci dà un'enumerazione con cui noi possiamo estrarre gli elementi dalla lista o dalla collection originale però questa volta ordinati quindi non è che viene creato per una nuova collection semplicemente quando noi cicliamo il valore sul valore di ritorno di questa ordered citiamo gli elementi ordinati a partire da un'enumerazione che può essere la lista di partenza oppure qualcosa che è stato sottoposto a un altro di questi metodi cioè ognuno di questi metodi crea qualcosa da enumerare che parte da quello precedente e applica in qualche modo una trasformazione un filtro un ordinamento una conversione quindi nel momento in cui noi facciamo una cosa del tipo minimo, massimo last first cioè diciamo voglio risultato a quel punto la catena viene eseguita quindi si va a estrarre l'elemento ogni numereable tira dalla precedente il valore e ci dà il risultato che ci serve e che gli andiamo a chiedere quindi questo è un po' il cuore cioè lista stack e queue indicano come internamente sono salvati i valori e come vengono anche estratti se andiamo a inserirli e a prenderli e numerable è un po' la base che ci dà lo scheletro astratto di tutte le funzioni che noi possiamo usare per interrogare la nostra struttura dati se io quindi volessi partire dalle collection ok e andiamo a crearci ad esempio c'è una pagina specifica per queste vedo che non vedo diverse pagine ma non vedo come dire qualcosa c'è un introduction ma è vuota quindi a questo punto basiamoci sugli esempi che facciamo prima prendiamo ad esempio proviamo a fare una cosa del tipo list vediamo se abbiamo allora list si troverà immagino all'interno di spring collection stavo pensando se allora spring ok ci vuole ovviamente però ci vorrà anche nostra spring collection list quindi ecco che ci compaiono stavo vedendo se c'era già qualche qualcosa c'è perché vedo questo create list qualcosa per costruire come dire ah ok value ci vuole un array ok di costruire automaticamente una lista partendo da come dire una serie di elementi già definiti quindi sarebbe interessante provare questo quindi in realtà qui qualcosa c'è perché vedo un value array of t quindi se io gli do qualcosa del tipo 2 3 4 5 6 magari c'è anche un range forse forse anche qui bisogna avere un po' il tempo di create dictionary create stack queue sorted vediamo se c'è qualcosa che lavora con dei range anche questi guard check range guard check null probabilmente ci sarà qualcosa del genere sono ah c'è un t enumerable vediamo questo t enumerable quindi possiamo anche usare il tip direttamente per farci creare qualcosa partendo partendo da qui praticamente sono gli stessi metodi dell'enumerable però in forma static cioè richiamabili direttamente dalla classe passando la collection come parametro direi ho visto però che c'era quel range perfetto start parti da zero count 100 ottimo questo è un modo di questo cosa mi produce di bello come dicevo come valore di ritorno mi dovrebbe dare un enumerable immagino però interessante perché non ho idea in realtà cioè lui mi dà un'enumerazione però non ho idea di quale sia la struttura fisica in cui lui mi ha inserito questo range cioè quello che intendo è presumo che sarà una lista o qualcosa del genere però ok comunque partiamo da questa numbers chiamiamola numbers così la facciamo un po' esercitare da 0 a 100 quindi qui se compila correttamente mi aspetto essendo un enumerable ad esempio mi aspetto di poterci fare qualcosa come un ciclo ovvero num in l numbers così vediamo vediamo cosa andiamo a stampare giusto perché sono curioso quindi faccio ci devo mettere poi mettiamoci un readline se no mi si chiude prima che possa vedere lo lancio ok 0 99 quindi partendo da 0 ha fatto 99 numeri quindi questo numerable range in realtà dovremmo andare a vedere il codice il codice lo potremmo trovare immagino qui source base collection andiamo qui sotto enumerable ah beh no lo apro qui che è meglio così enumerable t enumerable questo però non è quello statico o si qui c'è la documentazione fammi cercare range ce la troviamo non out of range add range anche questo può essere interessante per raggiungere più elementi in un colpo solo forse se uso questo faccio anche prima ma questi sono i metodi non statici questo t enumerable da dove viene fuori spring collection t enumerable quindi forse è in una collections punto ah si c'è anche questa giusto ci sta ci sta t enumerable ok methods non lo trovavo perché range ok range iterator ok che non è qui ma è forse è qui forse è qui dove sarà siamo quasi prima a cercarlo qui oh no 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 non voglio fare login per questa cosa devo loggare per fare una ricerca no code ok t range iterator ho trovato spring collection base eccolo qua create effettivamente sono anche un po' posso anche andare a vedere punto create quindi ho usato in più punti vediamo non c'è mai l'implementazione di questa roba dov'è l'implementazione start count ok ah ma giusto in realtà questo range questo range è un'enumerazione che ha uno start e ci dà n valori sto cercando una cosa che però effettivamente contraviene con la logica che è appunto del cioè quello che mi viene creato qui questo range è un'enumerazione di un oggetto che rappresenta appunto il range e questo è interessante perché effettivamente non mi aspettavo di trovare una lista o qualcosa ma in realtà non ha senso perché altrimenti contraverrebbe al il discorso appunto dell'enumerazione cioè questo ti enumerable range mi dà un qualcosa di enumerabile cioè da cui posso estrarre valori partendo da un primo valore e andando all'ultimo questi 0,100 vuol dire lavoriamo con dei numeri che partono da 0 e il count è 100 quindi partendo da 0 andiamo da 0,99 perché sono 100 numeri quello che in realtà lui fa anzi che non fa ma è giusto cioè questo cosa vuol dire che questa numerazione è un qualcosa che ci darà partendo da 0 fino a 100 valori quindi ci darà lo 0 l'1 il 2 il 3 non è che però questo range dato questo inizio e questa ripetizione ci crei un array una lista di questi valori i valori non vengono storati ci crea è un oggetto che se viene numerato cioè ci facciamo sopra un ciclo for che è il modo più banale per scandire un'enumerazione andrà a estrarre di volta in volta tutti i valori di questa numerazione quindi noi non abbiamo un array una lista già pronta con questi numeri abbiamo un oggetto che implementa un'interfaccia che restituisce di volta in volta il valore il primo valore e i successivi quindi nel momento in cui viene chiesto il primo valore darà 0 se chiederemo il successivo darà un 1 un 2 un 3 quindi produrrà i valori dal 0 a 100 ma senza memorizzarli preventivamente in una lista o in un array cioè li fa al volo li fa sul momento perché prescinde l'enumerazione prescinde dallo storage e quindi se l'obiettivo è creare generare 100 valori partendo dallo 0 incrementando di 1 non ha senso non è necessario che noi abbiamo un array già pronto di questi valori è sufficiente che restituiamo di volta in volta tutti i valori che fanno parte del range quindi questo rispecchia esattamente il concetto che dicevamo prima cioè se io voglio trovare i numeri pari da 0 a 100 è come se facessi un ciclo for per i che va da 0 a 100 cioè non vado a crearmi una struttura per contenere i valori e poi ci faccio sopra un filtro quindi questo è già comodo perché noi qui potremmo come dire iniziare a lavorarci quindi abbiamo creato un oggetto non sappiamo potremmo saperlo ovviamente ma un oggetto concreto che implementa la logica del range però tutto ciò che noi possiamo utilizzare per lavorarci sopra sono in realtà ciò che viene prodotto cioè che fa parte dell'interfaccia enumerable ma quindi riuscire a estrarre solo il quinto valore potenzialmente sì perché noi ad esempio diciamo element at 6 non posso garantire che questo sia ottimizzato cioè che questo element at 6 quello che faccia sia calcolare automaticamente qual è il sesto valore ma se potenzialmente fosse in grado di farlo lo potrebbe anche fare element at 6 vuol dire prendiamo l'elemento che ha come indice 6 quindi cosa facciamo proviamo a stampare questo e vediamo cosa ci salta fuori stampiamo questo e poi continuiamo l'enumerazione vediamo cosa succede run run without debugging ok mi interessa all'inizio vedete che lui ha fatto 6 e poi è ripartito da 0 ha fatto un ha fatto un restart perché il ciclo for praticamente riposiziona all'inizio il o meglio ogni volta che noi facciamo stiamo ogni volta che noi andiamo a utilizzare quella numerazione di fatto la eseguiamo cioè quell'element at composizione 6 praticamente dell'enumerazione prende l'elemento che sta in quella posizione se ci facciamo un ciclo for stiamo prendendo tutti gli elementi quindi ripartiamo da 0 e andiamo fino in fondo cioè quelle numerable è un'espressione che rappresenta mi sarei aspettato 5 vediamo l'indice allora l'indice 0 è il primo mi sarei aspettato 5 anch'io però dipende come viene poi interpretato questo element at all'interno del se comincia da 0 si giustamente quindi e comincia da 0 per farli capire quindi controlliamo perché non si sa mai si parte da 0 facciamogli cambiamo il range così vediamo se otteniamo adesso magari lo riduco anche un po' perché così evito di scrollare qui ho messo 7 beh facciamo se io prendo in posizione 0 lui mi da un 1 aspetta che questa cosa mi pare mi da 2 quindi 3 4 5 6 e 7 no forse forse è giusto forse ha ragione element at probabilmente è 0 based si è 0 based quindi si no giusto cioè questo scusate mi perdo in un bicchier d'acqua abbiamo venuto a Tokyo si che ha anche ragione si esatto è 0 based quindi mi da l'elemento all'indice x quindi l'indice all'indice 6 corrisponde giustamente il 6 se partiamo da 0 perché se prendiamo lo 0 ci aspettiamo lo 0 se partiamo cioè se qui adesso mettiamo 0 il primo prima avevi 0 come inizio esatto cioè avevo 0 come inizio quindi l'elemento in posizione 0 è 0 in posizione 1 è 1 quindi alla fine otterremo che ops in posizione 6 giustamente abbiamo il 6 non il 5 perché element at element 0 adesso adesso come adesso ci da 1 infatti element at 6 ci dava prima dopo ci dava 7 cioè element at prende un indice quindi l'indice parte da 0 quindi non è il sesto elemento è l'elemento con posizione 6 quindi se fai un range partendo da 0 alla posizione 6 c'è il 6 perché se la posizione 0 c'è lo 0 all'1 c'è l'1 la posizione 6 ha il 6 se partiamo da 1 c'è giustamente il 7 quindi può essere forviante però questo è un index quindi è giusto però sì la posizione mi sono confuso anch'io quindi per un attimo diciamo che non lo uso spesso questo element at neanche su link ad esempio o in altri contesti perché non mi prendiamo ad esempio proviamone qualcuna ad esempio un po' più a meno che non vogliamo partire già dalla where quindi qui creiamo un range la cosa carina quindi è che abbiamo su numbers un'interfaccia quindi direi che se io qui mettessi un bel mettessi questo non dovremmo trovarci delle segnalazioni delle free da fare quando qui diamo tutto perché qui recuperiamo un'interfaccia la utilizziamo quando usciamo dallo scope questo viene naturalmente deallocato il fatto di poter lavorare con il numerable vuol dire da qui estraiamo i valori del range se qui aggiungiamo questa where quindi potremmo dirgli c'è ad esempio uno skip saltami ad esempio 10 elementi scrivo in questo modo perché così si vede anche l'effetto come dire della concatenazione questo skip 10 elementi non cambia la nostra praticamente va a generare una nuova enumerazione che cosa fa nel momento in cui noi estraiamo valori nel momento in cui ci facciamo un for each su questi numbers lui va a chiedere all'enumerazione il primo elemento qui c'è uno skip di 10 quindi l'enumerazione lo chiederà al range il range darà il primo elemento e lui si segnerà che l'ha estratto ma non deve restituirlo cioè nel momento in cui enumeriamo il range originale con uno skip stiamo tirando fuori i valori da un'enumerazione che li prende da un'altra enumerazione saltando però i primi 10 quindi abbiamo una catena che chiede un valore a qualcosa che i primi 10 li scarta e poi inizierà a prendere i valori dal range che li produrrà uno dopo l'altro quindi abbiamo un modo qui di produrre un range vabbè lo skip chiaramente qui non avrebbe se mettiamo 10 qui siamo già a posto però come abbiamo skip poi vedremo abbiamo anche delle where abbiamo tutta una serie di elementi che con catenati vanno ad aggiungere alla nostra enumerazione una catena che di volta in volta estende il feature che applichiamo alla nostra collection quindi se metto questo skip 10 e andiamo a testare cosa succede vediamo che il adesso metto meno valori perché se no ogni volta vediamo che partiamo dall'11 partiamo da 1 arrivati al decimo valore abbiamo fatto 10 valori qui nel ciclo for stiamo stampando da 11 in poi riduciamo un po' questo range così evito di scrollare quindi lancio il mio programma e ottengo i valori se usi write invece di write line non ti va capo dopo ogni elemento del for si però non lascia dovrei metterci uno spazio quindi ma mi va bene così cioè così li abbiamo ben ben chiari e si capisce anche bene si vede anche bene quello che succede quindi qui andiamo da 11 a 20 ok poi non so se magari hanno già fatto qualcosa del genere no ad esempio potremmo dire troviamo tutti i numeri divisibili per 10 quindi potremmo dire mettiamo una where oltre alla skip c'è anche una skip while che ci consente di definire un predicato adesso facciamo il test con un predicato skip while vuol dire estraggo i valori se non soddisfano una condizione scarto e continuo col successivo quindi o meglio no perché quello è un filtro skip while vuol dire finché c'è una condizione verificata continuo a skippare nel momento in cui non è più verificata allora inizio ad estrarre i valori il primo è tutti quelli che seguono quindi mi consente di dare una condizione che salta tutta una serie di valori iniziali finché non arrivo a quello che mi interessa ah qui poi ovviamente prima di passare alla where oltre alla skip immagino che ci sarà anche una take take 10 vuol dire che cosa faccio faccio una run ok prendo i primi 10 elementi cioè da un range da 0 a 11 li vado ad estrarre però mi fermo ai primi 10 cioè quel take 10 è un'enumerazione che tira fuori i numeri una alla volta quando è arrivato a 10 dice al ciclo 4 guarda che non c'è più niente diciamo non c'è più nulla da buscare in poche parole quindi non va neanche a estrarre dal range cioè il range non produrrà da 11 in poi perché l'enumerazione che viene dopo che fa questo filtro non gli chiede più nulla perché all'interno dell'implementazione c'è qualcosa che gli dice che a 10 l'enumerazione è finita quindi ha scoperto di estrarre 10 elementi e quindi quando è arrivato al decimo gli dice dice basta potremmo dirgli ad esempio di saltarne 5 e poi prenderne 10 anche questa è un'altra combinazione che possiamo fare lo lanciamo e cosa vediamo quel skip praticamente fa sì che quando gli viene chiesto un elemento successivo lo vada a estrarre dal da quello di base ma skip 5 vuol dire che i primi 5 elementi li buttiamo via e quindi il primo valore che restituiamo sarà il 6 in questo caso quindi diamo il 6 perché ce lo chiede quel take che va a estrarre n valori ma quando ha contato fino a 10 si ferma quindi qui ci troviamo che ci mancano i primi numeri 1, 2, 3, 4, 5 per effetto dello skip e il take quando inizia a recuperare valori dallo skip perché gli da perché ha saltato i primi 5 arrivato a 10 smette di chiederne perché c'è scritto take 10 e quindi più di 10 count però qui non ragioniamo ovviamente con un array definito di numero abbiamo un generatore di numeri e abbiamo un'interfaccia che di volta in volta va a estrarre un valore prodotta con un metodo che restituisce sempre un'enumerazione con dentro un'implementazione logica che però sa in che modo e quando fermarsi e come estrarre i valori da quella di origine quindi è una catena dall'inizio c'è la richiesta che si propaga e va a estrarre un singolo valore finché non otteniamo in realtà quello che vogliamo proviamo con la con la where ad esempio magari estendiamo il range così vediamo qui ne prendiamo non so una ventina così abbiamo qualche valore in più va che poi potevo fermarmi anche a 30 ma vediamo qualche metodo dove accetta dei predicate ad esempio abbiamo la where con la where cosa potremmo fare non so prendiamo prendiamo quelli pari ad esempio qui dovremmo definire quello che appunto viene definito come un un predicate cioè una funzione che dato un valore integer perché abbiamo creato un range abbiamo un enumerable di integer ci dice se tenere il valore oppure no questo come viene fatto a tutti gli effetti aspetta che vediamo un attimo ok possiamo mettere la funzione direttamente qui quindi questa è una funzione anonima dove qui arriva un value o item chiamatelo come volete ok che restituisce un boolean quindi questa where è sì fatta è fatta così ok quindi where vuol dire io ciclo ti passo tutti i valori e tu mi vai a dire quali dobbiamo tenere quali dobbiamo buttare ecco dove era la parentesi che avevo chiuso accidentalmente quindi qui come funziona gli dobbiamo dire ad esempio vogliamo i numeri pari allora gli dico che il result che è un booleano è true quando è value mod 2 è uguale a 0 quindi gli dico se questo è c sharp vedete che mi confondo mi confondo con quindi se diviso 2 il resto è 0 è pari il result è true altrimenti risalta sarà false quindi questa where cosa fa partendo dall'enumerazione tira fuori i valori ma prima li sottopone a questa funzione se la funzione è da true quel valore passa salta il fosso se è da false ovviamente rimane rimane indietro di tutti questi valori noi però 5 li saltiamo e degli altri ne prendiamo al massimo 20 al massimo vuol dire che se ne abbiamo 10 qui arriviamo a 20 quelli che abbiamo prendiamo chiaro che se questo è disposto in alto vuol dire che dal range saltiamo 5 valori e di solo dal quinto cioè dal sesto in poi applichiamo la where cioè ovunque voi mettete questi ovviamente cambia l'ordine dipende da cosa volete fare prima e da cosa volete fare dopo se questi skip e take ad esempio vengono usati molto spesso per fare banalmente una paginazione mettiamo che io ho delle pagine con 20 record ciascuno ok sono alla pagina a 2 qui cosa scrivo page index meno 1 per 20 che sono le righe di una pagina oppure row count chiamiamo take row count una cosa del genere giro cosa succede ad esempio che page index ad esempio siamo nella prima pagina faremo che skipiamo 0 per 20 righe vuol dire che skipiamo 0 elementi cioè li prendiamo tutti se siamo nella pagina 2 2 meno 1 che fa 1 per 20 vuol dire che saltiamo 20 elementi ovvero prendiamo gli elementi che sono nella seconda pagina nella terza e così via il take row count fa sì che da quel momento in poi prendiamo gli elementi ma non superiamo quelli di una pagina e in questo modo abbiamo fatto una paginazione non nulla di più nulla di meno la potenza il top e qualche componente di terze parti lo fa e funziona con sarebbe leggere questi metodi e far sì che diventino non qualcosa che elabora degli oggetti ma che vengano letti come elementi che vanno a comporre un'espressione che applicata a un oggetto di partenza che viene esposto come numerable non va ad caricarsi dei dati per poi farci il filtro direttamente ma traduca il tutto magari in un SQL ad esempio e a quel punto avremmo il vantaggio di usare questa sintassi per creare una chain di un oggetto che man mano ne crea altri che vanno a comporre una catena che alla fine definisce una come dire una query di partenza una serie di filtro una serie di clausole che può essere letta e trasformata ad esempio in una query SQL quindi noi potremmo avere virtualmente la possibilità di scrivere del codice di compilarlo una volta scritto di creare un filtro che applichiamo lato server e non queste range come abbiamo visto questi valori vengono prodotti sul momento nulla ci vieta che nel produrli tutte queste chiamate non si traducano in qualcosa che lavora su un filtro ma magari sono chiamate che nel momento in cui vengono invocate salvano delle informazioni per produrre ad esempio una top in questo caso un offset in questo caso un filtro e qui è già un po' più complicata diciamo probabilmente da fare bisognerebbe riuscire ad analizzare questo codice però ci vorrebbe come dire magari qui invece che il value qualcosa di più evoluto con degli operatori cioè bisognerebbe capire quello che c'è scritto qui ecco e però potrebbe diventare una where da mettere in uno statement SQL quindi link è un po' da questa potenza qui al momento non questo tipo di implementazione c'è in alcune forme su alcuni componenti di terze parti come TMS Aurelius o qualcosa anche di REMObject però è un di più ma la logica su cui si basa è fondamentalmente questa quindi tiro via un attimo questi due così facciamo questa operazione quindi ho messo range punto where quindi su numbers finisce sempre un'enumerazione di interi però in questo caso un'enumerazione di interi da 1,50 qui è un'enumerazione di interi da 1,50 filtrati prendendo solo quelli pari quindi vado a estendere l'enumerazione e la catena per filtrare i valori che tiro su se faccio una bella run mi trovo 2,4,6 10,12 bla 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 fino a 50 quindi vedete che ho preso solo quelli pari ovviamente posso come dire includere più where posso come dire partire anche da un array che non sia di numeri ma che sia ad esempio di string questo non qui ho usato il range però mettiamo di fare una variabile facciamo un altro esempio mettiamo names uguale in questo caso avrò bisogno di una list anzi tlist ah perché è un problema di mi ricordo cosa avevo usato prima forse erano sempre metodi di per creare la lista direttamente da qualcosa di esistente pure avevo fatto prima qualcosa del genere forse c'era un list create list where vabbè tanto possiamo per sempre possiamo sempre rifarla in qualsiasi momento di collection era forse si era qua create list non gli do il tipo però gli do ad esempio un array di valori vediamo se è abbastanza intelligente Antonio Valerio Gianni questo è un caso in cui abbiamo una lista che parte lnames che parte da un array di valori già prestabiliti vediamo se funziona anche in questo caso funziona tutto dovremmo riuscire a numerarlo abbastanza tranquillamente Mauro Antonio Valerio Gianni ok qui magari lasciamo anche qualche spazio così abbiamo creato una lista partendo da partendo da dei valori che non sono interi ma sono string c'è un array di string famoso const array un array di costanti anche qui sarebbe bello ad esempio dire vediamo intanto se riusciamo a fare una cosa ad esempio chiedere non so qualcosa che contenga il nome quindi inserisci anzi facciamo la lettera iniziale mettiamo aggiungiamo dei nomi Giovanna Vanessa Antonella così la lettera iniziale farci dire first letter di tipo string farci leggere quella lettera e stampare tutti i nomi che iniziano per quella lettera una cosa del genere qui L chiamiamola chiamiamola name list name filtred quindi questa sarebbe la name list o più che altro name beh questa si in tutti gli effetti una lista dovrebbe essere quindi è una lista di spring però sappiamo che implementa innumerable quindi avrà una where che accetta un predicato il vantaggio di passare questo predicato intanto che qui possiamo scrivere come dire la funzione come vogliamo quindi ad esempio trovare tutti quelli che iniziano con qui dovremmo ovviamente mettere una stringa perché la nostra list di stringhe è una numerazione di stringhe giustamente esatto string in integer ovviamente non sono non sono compatibili qui cicleremo la lista filtrata e qui mettiamo giustamente questo nel resto non lo possiamo calcolare mettiamo result uguale a value di zero uguale l first letter cioè qui c'è uno dei vantaggi cioè il filtro lo passiamo all'interno di una procedura che internamente richiamerà una nostra funzione la quale fa un ah si mi confondo con dotnet in realtà poi essendo stringa possiamo usare esatto questa cosa qui così abbiamo la il vantaggio di passare una funzione in dote a qualcosa che la utilizza per fare un filtro con un valore che noi passiamo direttamente cioè che viene catturato nel contesto cioè questa questa where verrà eseguita non qui ma solo nel momento in cui noi andiamo a ciclare su questo filtro cioè se io metto un breakpoint qui mi aspetto che non venga eseguito nel momento in cui noi passiamo sopra questa istruzione perché noi qui stiamo creando la funzione come valore che passiamo a un metodo che la invocherà per filtrare i nostri dati al momento opportuno però non la invocherà subito è qui che noi diciamo facciamo un cicloforo su questa numerazione e allora avrà bisogno essendoci una where di filtrare quindi sarà qui che il filtro verrà eseguito quindi da una logica che è interna a questo where in cui noi possiamo però passare una funzione che cattura e mantiene in vita una variabile perché è visibile nel contesto questa first letter che noi parametrizziamo da fuori altrimenti non avremmo avuto modo di fare la stessa cosa cioè avremmo dovuto creare una where che accetta virtualmente filtri di qualsiasi tipo o di qualsiasi invece qui lo lascia affidato a noi però attenzione che c'è un'esecuzione indifferita cioè questa funzione è un valore che viene utilizzato nel momento in cui qui facendo il ciclo c'è bisogno di filtrare la cosa bella è che quando verrà eseguita internamente a questa where la funzione che viene passata come parametro e come valore avrà la visibilità e leggerà e potrà leggere il valore di una variabile che è nello scope in cui questa funzione è stata dichiarata ma potrebbe non necessariamente in uno scope all'interno del metodo where quindi abbiamo la possibilità di fare questo giochino closure è una questa è una funzione tipica dei metodi anonimi quindi proviamo a fare proviamo a fare questo esperimento ovvero mettere un breakpoint qui e metterne uno qui lanciamo il nostro programma inserisci la lettera iniziale adesso io scelgo ad esempio con la V abbiamo Valerio Vanessa magari la logica poi non è corretta ma lì do un un invio e siamo stoppati perché c'è il breakpoint se noi eseguiamo il breakpoint di questa istruzione ok vedete che qui dentro non siamo passati non ci siamo ancora arrivati perché abbiamo semplicemente chiamato una funzione che al suo interno produce un enumerable che andrà a filtrare chiamando un'altra funzione che viene passata come dote nel momento in cui qui facciamo il ciclo for stiamo facendo un'operazione che quindi potremmo fare una catena di where con tante condizioni ad esempio mettendo anche degli if cioè potrei dire se mi hai dato un carattere allora aggiungo la where altrimenti non lo aggiungo quindi potremmo avere una serie di condizioni che ci consentono di definire se serve oppure non definire un filtro in maniera dinamica con valori presi da fuori nel momento in cui io faccio qui il ciclo for perché ad esempio entro nel ciclo e devo estrarre dal primo all'ultimo i valori ecco che mi trovo nella mia funzione cioè viene chiamata la mia funzione quindi il codice dentro un oggetto cioè è un codice che sta in un metodo di un oggetto che questa where ha restituito quindi non è neanche nella where cioè la where ha passato questo valore a un oggetto che utilizza quella funzione per filtrare degli elementi quindi chissà dove la nostra funzione viene invocata all'interno di spring ma nel momento in cui viene invocata ci troviamo qui e riusciamo a leggere questa variabile perché essendo visibile nello scope la funzione che viene invocata chissà dove è qui e cattura il contesto e quindi ha accesso a qualcosa che sta nella first letter qui lui sta passando ad esempio Mario quindi non gli diremo false quindi questo sarà un valore che verrà scartato passerà ok qui cerca di entrare nel source ma fa lo stesso no questo ci fidiamo quindi lo lasciamo lasciamolo eseguire ovviamente entreremo qui dentro per ogni ogni nome che dobbiamo valutare però il concetto è attenzione che più where voi mettete più clausole mettete ma non vengono eseguite quelle funzioni finché non ci troviamo alla fine quindi in realtà se sono in catena il filtro più stringente è a monte avete un filtro anche più come dire credo che poi alla fine ottimizzate perché date meno valori ai controlli successivi che non dovranno farci sopra una where ad esempio quindi un modo di ottimizzare la cosa c'è ovviamente l'equivalente di fare un ciclo fuori e controllare tutte le condizioni però scritto fatto così è un pochino diverso ed è un pochino un ciclo for per la where ok magari più semplice si può fare però attenzione che fatto così io posso combinare delle where delle first the last fare dei tool list fare dei dizionari fare una serie di cose che mi richiederebbero tanti cicli tanti variabili locali e il codice rimane comunque decisamente più leggibile a meno per chi ci è abituato con i metodi anonimi l'ideale sarebbe avere nel linguaggio una funzione cioè una sintassi per fare delle funzioni lambda ovvero scremare questa sintassi o mettendo ad esempio il tipo del value e il booleano perché la where accetta un predicato quindi una funzione che restituisce un booleano quindi è inutile specificare funzione booleano perché non si può evincere dal contesto a cui passa un parametro di tipo string quindi guardando il tipo del predicate Delphi sarebbe in grado di attribuire automaticamente un booleano al valore di ritorno e una stringa per il value e afforzarlo quindi almeno che non lo indichi potremmo eliminare tutto ciò che nella sintassi non è presente e lasciarci proprio solo un qualcosa di solo questa espressione idealmente cioè scrivere where e scriverci dentro value.char 0 uguale a first letter senza mettere nessuna del resto del codice quindi sintetizzandola al massimo se avessimo una sintassi del genere saremmo come dire a cavallo in questo caso perché già così comunque è abbastanza comprensibile c'è where ho una funzione e qui dico ok se il primo carattere è uguale alla lettera quindi ci sta si capisce però con una sintassi stile lambda sarebbe molto più molto più easy togliendo tutto quello che non serve o che comunque è come dire deducibile dal contesto cioè la where vuole una funzione con valore di ritorno booleano e un parametro string se qui lo cambio in intero va in errore se qui usa un altro tipo va in errore e quindi essendo questa l'unica alternativa è superfluo dovergli indicare i tipi del parametro del valore di ritorno quindi una sintassi che mi consente di non farlo sarebbe il top tutto lì il discorso tutto qui per il resto abbiamo a disposizione tutto quello che ci serve lo lascio andare in fondo così vedete che è rimasto Valerio Vanessa quindi ha filtrato correttamente ovviamente potremmo filtrare noi qui abbiamo fatto solo dei cicli for ma quello che potremmo fare ad esempio è fare anche delle cose un pochino più complesse per dire potremmo qui metterci magari ce lo teniamo per una prossima volta un t person ok uso un record perché così faccio un po' prima anzi t student full name o name così nome dello studente oppure esame esame di uno studente e il voto da 1 a 10 qualcosa del genere potremmo creare qualcosa del genere potremmo quindi teniamoci tutto questo codice e poi fare una l vote list che sia una t list di t non so si può fare così si dovrebbe poter fare o devo usare t collection probabilmente si usa t collection perché collections create list dt exam si usa questo metodo probabilmente perché nel creare una lista mi dà l'interfaccia cioè non abbiamo accesso alle classi di implementazione ma è giusto perché essendo che lavoriamo sempre con delle interfacce qui infatti vedete che è comodo che non ho messo neanche una free e non ce n'è bisogno perché sono tutte interfacce quindi questo crea qualcosa che si utilizza come lista quindi posso fare ad esempio un add e aggiungere un item che sia un esame quindi posso andare ad aggiungere un elemento di questo tipo facciamo un diamoci un costruttore così di exam result oppure come come l'esito ti voto mettiamoci un costruttore che prenda ad esempio due parametri un name tipo stringa e un voto di tipo intero così è più facile da creare cioè il nostro oggetto il nostro exam potremmo crearlo impostando name add a name e vote a vote quello potrebbe essere ad esempio il voto di una materia quindi mettiamo add vuole un exam quindi exam result create mettiamo matematica ha preso mettiamo la mia matematica 4 poi mettiamo un non capisco le quali esplicità argomento ah sorry ho cambiato mettiamo boh italiano mettiamo 7 poi mettiamo adesso ne mettiamo qualcuna ma informatica 10 e poi mettiamo educazione fisica 6 l'ultima storia geografia 5 quindi potete creare una lista per qualsiasi tipo di dato usando questo collection create list perché c'è la lista concreta ma voi avete un'interfaccia ai list l'add ad esempio non c'è nelle numerable che io sappia perché numerable è sempre quando noi leggiamo i dati add c'è sulla lista perché la lista è un array che si espande aggiungendo via via degli elementi una volta che abbiamo messo questi valori ad esempio supponiamo di voler ottenere ad esempio la media ok allora il vote count lo otteniamo direttamente dalla lista perché count è direttamente dobbiamo fare ad esempio la somma gli add si possono concatenare la create list buona idea dipende da come è fatta l'add l'add no perché l'add praticamente aggiunge l'elemento e ti restituisce un intero che è la posizione se non ricordo male cioè ad esempio qui facciamo add ci da 0 se facciamo add qui ci da 1 e quindi cioè qui potresti se lo concateni qui ti trovi un intero che è l'indice del primo elemento e hai perso il riferimento alla lista però puoi partire ad esempio da un'enumerazione o da un array di exam result cioè puoi partire da valori se stanno ad esempio in un altro contenitore oppure da un'enumerazione cioè tu puoi enumerare qualcosa quindi se vogliamo fare ad esempio una lista di interi possiamo fare una create list di integer che prende come parametro un enumerable range da 1 a 100 abbiamo creato il range che fa i numeri e poi la lista che contiene effettivamente i valori in questo caso però in questo caso non vedo grossi vantaggi secondo me cioè va bene aggiungerli anche così quindi ci manca la somma dei voti la potremmo scrivere come vediamo se quindi questo non c'è una select in questo caso però abbiamo una somma dovrebbe accettare in realtà questa non è così non va bene così extract range get range ci sono delle move ci sono dell'index off non abbiamo delle non abbiamo una select pensavo di poter estrarre pensavo di poter estrarre qualcosa da comparer dalla lista invece quanto pare non non lo fa non lo fa ecco questo è un problema ci tocca numerare probabilmente però è strano è strano è strano per quanto sia in un certo senso forse get numerator abbiamo anche un for each sì non mi piace molto diciamo però non abbiamo quello che non abbiamo quello che questo for each vuole un fa parte del sempre numerable numerable for each vuole una action un t action qual è la differenza rispetto a un normale andiamo a vedere spring ma è interessante perché comunque action t action t sì ah però c'è un selector attenzione sono commentati accidenti quelle che volevo chiamare sono commentati come mai però come mai sono class function select quel che volevo chiamare sono commentati vediamo se c'è un altro modo cioè quello che volevo fare era passare da un da un numerazione di studenti la numerazione dei voti sì diciamo che l'action è una procedura però quello che mi farebbe fare è numerare i valori io dovrei fare praticamente la somma prendendo di volta in volta il voto invece quello che volevo fare io era partire dall'insieme degli esami proiettare fuori il voto e poi far fare la somma a lui vediamo se ci riesco se ci riesco in un altro modo allora è numerable ci vuole una sorta di selector cioè questa è quella che si chiama proiezione ovvero parto da una lista cioè qui è una lista ma è qualcosa di numerabile e gli passo questo selector che vuol dire io ti do un elemento cioè tu mi crei una funzione dove io ti passo ogni elemento e tu mi dici che cosa portare fuori ad esempio per me qui il mio selector ideale sarebbe una funzione che prende un singolo elemento che è di tipo exam result e come valore di ritorno mi dà un integer quindi il risultato sarebbe partendo dal singolo elemento item il suo voto probabilmente devo dargli i tipi in maniera esplicita ovvero che si parte da questo e anche qui una sintassi cioè parto dalla lista di voti e gli dico creami un'enumerazione che è un'enumerazione creamene un'altra che contiene che rappresenta i voti di ogni singolo elemento perché una volta che ho questo quindi parto da enumerable faccio questa select qui ho l'enumerazione dei voti quindi se io che sono degli interi se io faccio sum sommo tutti gli interi quindi il mio vote sum dovrebbe essere questa roba qui cioè parto dalla vote list ok e tiro fuori i voti li vado a sommare quindi la media dei voti è uguale a l vote sum diviso l vote count e poi si arrabbia perché la media non la uso mai ma bright line media dei voti due punti che addirittura non è extended quindi verrà fuori il numeraccio cioè è chiaro il concetto cioè io voglio sommare i voti i voti sono in una struttura io gli dico di enumerare la struttura e di trasformare in un'enumerazione di interi dove ogni intero è il voto preso dalla struttura però cioè se qui se volessi un elenco ad esempio dei nomi partirei da questo e farei cioè non voglio fare io i cicli ma voglio dirgli voglio sempre partire da un insieme in questo caso proiettare qualcosa all'esterno questa select può essere utile per prendere ad esempio dei record e proiettare fuori non so un insieme di interi gli passo una funzione che fa valore per 10 partiamo da degli interi e otteniamo un'enumerazione degli stessi interi moltiplicati per 10 però utilizziamo ci inseriamo sempre all'interno di questa catena cioè qui posso concatenare dei valori ad esempio qui posso mettere delle where cioè lavorando con le numerable io riesco sempre a trasformare il dato di partenza in quello che mi serve estrarre nel calcolo che mi serve fare quindi questa somma è l'equivalente di qualcosa che fa un for each di una serie di interi gli interi quando vengono estratti come vengono estratti chiamando questa funzione tirando fuori un elemento dall'enumerazione originale che sono voti e nomi e tirando fuori il voto quindi di nuovo è una catena che parte e prende via via estrae l'informazione che gli serve quindi qui evitiamo di fare un ciclo che sia col for o col for each collection che partendo dalla somma zero vado a fare questo incremento cioè rimane dichiarativo prendo i miei risultati tiro fuori degli interi che sono un voto e poi li sommo cioè dico esattamente quello che vado a fare provo a fare vado intanto se funziona che magari non funziona e ok qui c'è ancora il filtro col nome vabbè abbiamo l'abbiamo un po' gliene metto un altro metto la m così m ti è mario marta allora medio dei voti 6,4 periodico sarà vero dai mi fido mi fido perché facciamo con la calcolatrice 4 più 7 più 10 più 6 più 5 sono 32 diviso 5 6,4 quindi giusto il risultato è giusto quindi vedete che la select è forse una delle cose molto più potenti cioè magari è un oggetto complesso io tiro fuori un dato è moltiplicato oppure tiro fuori sono i nomi cioè passo delle numerazioni di oggetti complessi a un qualcosa che fa parte dell'oggetto oppure nella mia select nel mio selector nella mia funzione creo un nuovo oggetto che contiene dei dati a partire da oggetti di partenza quindi da un'enumerazione che viene scansionata arrivo ad avere un'enumerazione di record di altro tipo cioè la select mi trasforma qualcosa in qualcos'altro quindi io scelgo cosa portare fuori può essere qualcosa preso dal dato originale originario quindi un campo preso e portato fuori come in questo caso può essere un oggetto nuovo che creo copiando dei valori da quello originale può essere qualunque cosa e una volta che ho quella numerazione ci faccio poi quello che voglio come in questo caso la media dei voti qui qui ce ne sarebbe da divertirsi con le collection ma eventualmente possiamo fare anche delle altre live dove esploriamo un po' altre caratteristiche delle delle collezioni del Fispring che sono molto molto efficaci cioè il vantaggio che abbiamo è che il codice è molto dichiarativo faccio una lista di risultati dell'esame aggiungo via via un risultato matematica italiano prendo il conteggio prendo le numerazioni dei miei voti e passo dai voti a un intero come lo ottengo da ogni exam result tiro fuori il voto e ho le numerazioni dei voti li sommo e ho la somma perché non hai dovuto trasformare in stringa le vote media per scrivere il valore bello fa in automatico lui se lo mettete in un write line lui fa generalmente un to string write line è un po' è un incorporato nel compilatore e supporta questo separati da virgola più valori lui lascia uno spazio o due spazi penso sia automatico non varre che ne avesse messi due a si ne ha messi due quindi posso anche non mettere questo se mettete più dati con la virgola lui fa implicitamente presumo che lui dietro le quinte faccia questa cosa qui un to string del valore poi lo va a stampare non l'ho concatenato se tu intendi questo allora è giusto ma il write line supporta più valori separati da virgola quando lo usate lui stampa il primo spazio il secondo spazio il terzo tutti quelli che mettete è aperto perché oltre a essere una funzione che ha questa caratteristica è incorporata nel compilatore quindi è proprio se la cerchiamo dovremmo finire in system o esatto in quindi questa fa parte del delfi compiler la conosce ce l'ha incorporata e quindi ce l'abbiamo ovunque un po' come anche readline che è se lo scriviamo così se lo mettiamo con le parentesi poi non compila più perché lui vorrebbe avere un parametro cioè sono quelle un po' particolari che fanno parte del linguaggio di base che tra l'altro ci tiriamo dietro dalle versioni primissime del pascale quindi quindi un po' il concetto è come dire anche qui beh ad esempio il for each l'avrei potuto usare ma il for each credo sia della lista però però non sono sicuro vado a vedere no ad esempio per stampare i numeri invece che fare un ciclo for se voglio faccio questo for each gli dico questa è una cosa che va enumerata cioè mi devi partire dal primo elemento che trovi in avanti for each vuol dire ti do qualcosa da fare per ciascuno degli elementi quindi ci va una procedure che accetta come parametro uno degli item in questo caso è un number sono interi quindi questo deve essere intero begin end quindi questa è la sintassi cioè gli do una procedura che dice cosa fare con ogni numero con ogni numero me lo stampi e vai a capo al posto di l num ci va enumer e in questo modo avete ottenuto chiaramente lo stesso effetto protocimanica che vuoi integer and procedure incompatible types spring taction and procedure cosa gli manca forse la sintassi non è quella corretta vediamo se per caso c'è modo di di no the action list non è questa è una reference to procedure forse ci manca un const const ah ok non era compatibile perché si lo vuole const si ho letto dopo il commento comunque si anche perché giustamente qui potrebbero essere string e quant'altro e sicuramente non è modificabile quindi quindi questo for each è un po' un ciclo for dove per ogni elemento va a chiamare la nostra funzione qui ovviamente il vantaggio che abbiamo è che se passiamo stampiamo number potremmo accedere anche a qualche altra variabile che abbiamo nel contesto quindi è il vantaggio di avere i metodi i metodi anonimi quindi le liste le numerazioni si possono creare con le range oppure creando una lista un array sarebbe bello provare un po' i dizionari quelle cose lì ma il vero il vero power sta in queste where in queste condizioni che semplificano cioè che ci consentono di lavorare con queste numerazioni facendoci sopra dei fit delle operazioni e il vantaggio è che il codice dice esattamente quello che avviene cioè questo è un po' il faccio un range da 1,50 prendo i numeri pari where poi tra l'altro non si passa mai a definire qui uno storage cioè la where vuol dire faccio questo filtro for each a quel punto lì quindi anche in questo caso questa where verrà eseguita solo nel momento in cui io faccio il for each cioè ogni condizione che va valutata o che fa una proiezione o che fa un filtro o fa un ordinamento viene valutata solo quando io faccio for each oppure faccio un ciclo for su questa numerazione oppure scrivo ad esempio numbers first voglio primo elemento dovrà tirar fuori i dati il primo che recupera qui l'ultimo oppure first of default cioè dammi il primo oppure il default ti dico io il default oppure lascio il default che varia in base al tipo quando dovrò fare un max un minimo qui c'è il max col selector questo è le numbers max mi tira fuori automaticamente il massimo dei valori che io ho all'interno min minimo sum come abbiamo visto sotto ho un'enumerazione di interi fa la somma mi dà già la somma abbiamo visto skip take elemento in una in una certa posizione poi abbiamo dei concat quindi se abbiamo numbers se facciamo un contact con un'altra numerazione sempre di interi deve essere compatibile otteniamo non otteniamo una lista dei due otteniamo un'enumerazione che se scandita con un ciclo 4 ci dà i primi e poi anche i secondi cioè otteniamo qualcosa che va a estrarre prima dall'una e poi quando è finito dall'altra quindi se fossero due range li andremo a scandire in come dire in in sequenza il primo e quando abbiamo esaurito il secondo questo è un po' il come dire il concetto cioè è vero che con il ciclo 4 alcune cose si fa presto ma questo è già difficile come dire farle come c'è il contact immagino ci sarà anche non lo vedo qui in intersection forse questo è ancora da fare c'è questo shuffle che è interessante fa un'enumerazione che tira fuori probabilmente con random avendo come massimo il range il numero di elementi perché se qui vado su questo range e gli chiedo count mi dirà che il count è 50 ma perché non è che va a creare 50 valori e mi dice sono 50 mi restituisce il campo dove c'è scritto che questa numerazione produrrà generalmente 50 valori quindi cioè c'è della logica intelligente dietro a queste questo shuffle è interessante perché probabilmente usando quel count quel 50 genererà in modo randomico l'indice dell'elemento da tirar fuori e quindi otterrà il range adesso non so poi come dovremmo vedere un po' la la come implementata probabilmente alcune di queste funzioni io dopo scontato che vadano a tirar fuori tutti i valori e ci facciano qualcosa sopra cioè nel senso che non siano tutti così per dire ottimizzati dall'estrare un elemento alla volta necessariamente anche perché in certi casi alcune cose le posso avere esatto vedete che qua lui cosa fa lo shuffle in questo caso è già un pochino più più stupidino ovvero partendo dall'enumerazione fa un two array quindi estrae tutti i valori quindi qui avremo l'array il range da 1 a 50 li mescola e poi restituisce un iteratore sull'array quindi restituisce come un'enumerazione qualcosa che ci dà il primo elemento e successivi partendo dall'array in cui lui prima ha messo tutti i valori e poi ha fatto il mescuglio poi l'ha mescolato quindi in questo caso occupiamo della memoria facciamo un range da 1 a 1 milione col codice che abbiamo scritto noi problemi non ce ne sono con questo codice sarebbe un problema perché per mescolarli lui ha bisogno di tirar fuori i valori e dargli una mescolata questo ma ci sta perché ovviamente questo shuffled è generico come vediamo qui cioè shuffled additivo potrei anche mescolare delle stringhe quindi io non posso dare per scontato di lavorare con un range cioè ho bisogno di tutti i valori e di mescolarli e quindi il range è un caso particolare che mi dà dei valori sequenziali ma io ho bisogno a quel punto di recuperarli tutti di farci qualcosa è chiaro che se ho bisogno di generare dei numeri casuali cioè questo ha senso se vogliamo mescolare non so abbiamo una serie di opzioni non so dobbiamo indovinare un nome ne abbiamo 10 abbiamo un array facciamo shuffle in automatico abbiamo un'enumerazione poi l'enumerazione possiamo fare tuo array cioè possiamo partire da un array fare shuffle fare tuo array per avere un array che è la mescolanza dell'array di partenza quindi quando facciamo tuo array passiamo dall'enumerazione che è un'interfaccia all'array vero e proprio riferimento all'enumerazione che è un oggetto che viene creato in mezzo a supporto lo perdiamo essendo un'interfaccia reference count va a zero l'oggetto viene distrutto e noi abbiamo il nostro array mescolato cioè ci sono ovviamente ogni cosa va usata un po' nei vari nei vari contesti quindi in certi casi vediamo delle cose più ottimizzate in altri casi un pochino meno ad esempio qui c'è questo get numerator e dice se posso tirar fuori almeno un valore quindi fare una move next se non posso tiro fuori un errore se posso metto come risultato il current e poi qui c'è un controllo che non ci siano altri valori perché siamo sul single il single vuol dire dammi il primo degli elementi se ce n'è uno invece il first gli dà il primo elemento e basta quindi qui vediamo che lui va a estrarre di fatto solo un pezzettino lo va a mettere come valore di ritorno e si accerta che non ci sia niente che arrivi dopo cioè che se va a ritirare fuori un altro elemento l'enumerazione non gli dia nient'altro però non va a tirare fuori tutto quindi dove può cerca di lavorare in modo ottimizzato dove non si può ovviamente non si può ma teoricamente non lo faremmo in maniera diversa penso neanche scrivendo codice normale qui normalmente quindi questo è un po' questo è un po' le collection sono molto molto interessanti poi sarebbe interessante un po' vedere tutte queste tutti questi metodi crearsi un po' di come dire di esempietti qualcuno c'è però non è magari molto intuitivo invece in questo modo abbiamo un po' sperimentato abbiamo visto un pochino come creare delle collection da zero con dei range partendo da dei valori come filtrarli come fare qualcosa di questo tipo chiaramente il numerable è un'interfaccia che noi potremmo poi estendere con qualcosa di nostro e se manca una struttura dati o vogliamo aggiungere un'implementazione la potremmo tranquillamente come dire prevedere se manca nella libreria per fare delle enumerazioni custom però diciamo il concetto penso sia abbastanza chiaro poi sicuramente ci faremo anche qualche altro live per vedere magari il discorso della dependency injection poi se ci sono altre cose da vedere sulle collection eventualmente ci torniamo sopra perché secondo me come implementazione è anche molto interessante per prenderne spunto per creare delle classi proprie copiando un po' l'approccio cioè avendo questa classe che fa un po' da factory lavorando con le interfacce vedere anche poi un uso concreto in questo caso dei metodi anonimi cioè tutti i filtri tu sul posto li utilizzi la tua logica e passi dei metodi anonimi per customizzare un pezzettino laddove ti serve della tua configurazione della tua criterio di filtro o criterio di selezione e così via quindi è interessante come anche riutilizzare magari una cosa del genere su un'implementazione diversa che sia di una propria applicazione che faccia qualcosa altro replicando lo stesso schema lo stesso principio ci fa vedere che il linguaggio si può utilizzare e comunque alcune soluzioni sono comunque di per sé fattibili quindi sono viabili direi quantomeno quindi qui ad esempio volessimo stampare i numeri invece che trovare i pari qui se andiamo a eseguire il programma vediamo che quando partiamo troviamo i numeri solo i numeri pari ovviamente ordinati poi ci chiede la lettera volessimo in ordine sparso number shuffled quindi questo shuffled è qualcosa che prende da qui riordina e però viene sempre esposto come numerable quindi questa è l'enumerazione che ci consente di tirar fuori numeri di partenza in maniera casuale quindi se noi scriviamo il codice un po' in questo modo vediamo qual è la sequenza di operazioni che facciamo abbiamo i numeri potremmo anche metterli tutti in sequenza potremmo anche paradossalmente fare una cosa del genere cioè mettere shuffled mettere questo for each che gli stampa evitare di dichiararci una variabile ok e mettere tutto assieme cioè questa roba cosa fa crea il nostro range lo va a filtrare prende solo i numeri pari da 1 a 50 lo mescola per ogni elemento lo stampa finito quindi è tutto ogni riga di codice dice esattamente quello che viene fatto e non c'è un un ciclo che prende i valori a caso cioè non abbiamo randomize non abbiamo ci abbiamo proprio una sequenza di operazioni che partendo dal dal concetto di enumerazione creano un range lo filtro lo mescono lo stampano ci fanno qualcosa ovvero la stampa lanciamo questa roba qui otteniamo sempre lo stesso quindi non è che bisogna della variabile perché se non devo riutilizzare quell'enumerazione dopo che l'ho stampata io posso crearla farci quello che voglio stamparla ecco che è venuta fuori in maniera random quindi è stesso il risultato di prima però col codice a meno a me pare molto leggibile perché c'è il range c'è la where ecco questa sarebbe la sintassi un po' da se fosse possibile semplificare a livello di compilatore c'è la where che filtra c'è la la mescolanza e for each la stampa quindi nulla di più nulla di meno qui nella where sarebbe bello scrivere fare una where che fosse fatta così invece che tutta la funzione scrivano qualcosa del tipo a value che è il parametro di input un po' come in javascript a value mod 2 uguale 0 se ci fosse una sintassi così ecco gli stapperei lo spumante e direi che sarebbe il top cioè così sarebbe veramente super leggibile a parte che questo lo chiamerei value ma tipo num perché o num e number o n perché n così è ancora più semplice tanto questo sta a indicare i parametri della funzione questo sta a indicare ciò che verrebbe messo nel result quindi questa è una sintassi lambda se fosse così sarebbe il top e gli diremmo prendiamo ogni numero lo battezziamo con n filtrami quelle gli n che divisi per due danno resto 0 cioè proprio più più sintetico di questo e questo potrebbe diventare come for each in versione lambda qualcosa del tipo scritto così qualcosa del tipo for each anche qui c'è bisogno di un parametro lo chiamo n il fatto che sia intero non devo indicarlo perché lui vuole una procedura con un parametro intero se non è intero non compila quindi a me basterebbe mettere il nome e sarebbe ok perché lui sa già che questo parametro deve essere intero chiaramente se ne ho più di uno dovrei andare a mettere anche questi e qui dentro scrivere wrightline n siccome e qui praticamente io cosa e poi il doppiamento ideale sono ancora più esuoso sarebbe questo il fatto che io stia creando una funzione che prende come parametro n e chiamo una funzione che prende come parametro n sarebbe come passare direttamente come parametro la wrightline cioè lui qui vuole una funzione che passato il parametro n viene stampato io gli scrivo wrightline senza le parentesi wrightline non sarebbe possibile usare in questo contesto ma questo sarebbe il top cioè foreach vuole una funzione che prenda un valore e ci faccia qualcosa io metto wrightline quindi la foreach chiamerà wrightline passandogli n cioè questo prendere n e poi passare n è un'altra funzione è praticamente è un di più playerbis twitch mi segue grazie per il follow benvenuto mi sembra di non aver mai visto questo nickname quindi se ci fosse questa sintassi qui veramente arriveremmo ad avere cinque righe dove noi creiamo un range di numeri lo mescoliamo lo filtriamo lo stampiamo e scriveremo cinque righe di codice quindi dopo hai voglia di usare cicli for cioè questo è molto più è molto molto più intuitivo molto molto più leggibile e soprattutto una volta che funziona cosa è una libreria di java è ni nel senso che spring è ispirato a spring for java ma qui non siamo in java ma usiamo delphi quindi è delphi pascal e c'è una libreria molto simile a quella che cioè molto simile in realtà no perché spring per java è molto ampia ci sono dentro un sacco di di libreria anche per fare progetti dal punto di vista diciamo che ci sia anche la parte mvc ci sono un sacco di pattern qui ce n'è qualcuno però si è comunque una libreria di general purpose come si suol dire cioè generica per fare diverse cose dependency injection ci sono le collection ci sono smart pointer interfacce lazy quelle cose cose un po' che grazie per il follow anche a Tokyo che ha partecipato attivamente grazie dei suggerimenti perché comunque si è fatta una certa e quindi io inizio un po' sbarellare ma ci sta e quindi questa sera abbiamo provato le collection che sono una delle funzioni di questa libreria che oltre ai contenitori come list array che abbiamo anche in in realtà le abbiamo già nel linguaggio aggiungo delle funzioni in più per come dire partire da qualcosa di enumerabile e farci sopra delle funzioni concatenando i vari costrutti quindi partire da un array di nomi fare un filtro in diretta un ordinamento partire da qui c'erano voti di esami su diverse materie estrarre da un esame il singolo voto poi sommarlo insomma fare un po' di operazioni con queste numerazioni che sono un po' un'interfaccia che implementa ogni collezione cioè che sia una lista un array uno stack una pila o quello che è è un'interfaccia sempre presente con delle funzioni che si possono sempre utilizzare per agire sui valori e fare questo tipo di hai dovuto prendere la laurea per l'intera software developer? no io non sono laureato e lo faccio da dal 97 quindi sono diplomato quindi ci vuole tanta passione poi io studio come come tutte le cose però direi che essere un buon sviluppatore un buon meccanico di auto io non ci trovo non capisco niente di auto però non ci trovo molta differenza nel senso che entrambe le discipline chiaro a meno che non vai a fare delle cose matematiche o particolarmente algoritmiche o cose scientifiche per cui una formazione senza altre utile cioè non dico che l'università non serve attenzione però come dire farlo sviluppatore applicazioni desktop o mobile o frontend eccetera non eh sì io sono un po' attempato quindi ho sempre voluto farlo e quindi già sono andato nell'istituto scolastico con questa mira sono uscito con questo poi si era giovani si pensava faremo giochi faremo ci divertiremo invece poi le cose sono sono un pochino diverse nel lavoro però alla fine come dire alla fine il c'è modo di divertirsi anche nel risolvere problemi quotidiani so solo che amo programmare beh questo è un gran punto di partenza secondo me se si ha la volontà o comunque si vuole cioè si ha la passione e la curiosità penso che limiti non ce ne siano perché soprattutto ad oggi con quello che si può trovare in giro in termini di non sei il solo come in termini di come dire documentazione tool anche gratuiti cioè grazie a internet cioè io nel 97 ovviamente internet era non era appena nato ma non era sono diplomato in chimica industriale esatto quindi a volte c'è chi appunto entra nell'informatica arrivando da indirizzi cioè io ho fatto un istituto indirizzo informatico quindi ero abbastanza orientato sul picchiare su questa cosa però si anche date indirizzi alla fine diciamo che essendo che il computer è sempre un elemento presente saper utilizzare fare anche un po' di sviluppo software con qualche linguaggio che sia in questo caso qui utilizziamo Delfi ma perché è un lo conosco da tempo e poi qui abbiamo fatto diverse diverse live quelle precedenti alcune sono ancora su Twitch altre sono su YouTube dove abbiamo fatto anche proprio in maniera molto molto semplice a volte scrivendo anche pochissimo codice addirittura zero codice delle applicazioni desktop mobile quindi delle applicazioni come dire funzionanti abbiamo fatto qualche giochino abbiamo chiamato delle 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 pi ho 22 anni beh comunque 22 anni direi che hai tranquillamente il ripeto secondo me lì dipende ovviamente da uno passione che ha e dalla voglia che ha di raggiungere dei risultati e magari anche da cosa vuole farne lo specifico perché parlando di programmazione gli ambiti poi sono tanti sono applicazioni web parliamo di gente che ama fare magari front end e quindi lavora con javascript lavora con lavora con abbiamo i pinguini che ruotano lavora con javascript oppure back end accesso a database eccetera quindi sicuramente una specializzazione so che ci sono delle aziende mi viene in mente bull ma ce ne sono altre che fanno formazione e hanno anche alcuni corsi come dire gratuiti o semi gratuiti dove magari se ecco se tu fai il corso e trovi posti in azienda allora come dire li paghi o qualcosa del genere cioè perché ad oggi comunque è una figura molto richiesta quella dello sviluppatore in generale è difficile trovarne anche con certe competenze perché appunto o se un cioè se uno è un junior ovviamente deve un attimo farsi un po' la gavetta però quello che può sperare è di essere affiancato magari in un team con più persone che imparando insomma imparando un po' di cose sono stato assunto così facciamo antima diciamo visti sicuramente il canale del mitico Junkel non sapendo cosa ho paura di prendermi una laurea comunque la laurea sicuramente non guasta perché volente o non volente purtroppo alcune selezioni vengono fatte tra laureati cioè quando quello è un requisito c'è poco da rimanere c'è poco da stare a discutere cioè io al giorno d'oggi penso che non avrei grossi problemi se dovessi farmi assumere perché nonostante vabbè non sono Matusalemme ho più di 40 anni però chiaramente o hai esperienza o hai la laurea o comunque un'età è una curiosità che magari da dimostrare che ti consente comunque di essere una figura appetibile per essere inserito in un team di sviluppo quindi ah è vero è vero è vero perché so che ogni tanto passa anche qualcuno avevo letto dei commenti di Galavena cioè che passa di qui però non è ovviamente interessato all'argomento di programmazione c'è chi passa per quello c'è chi passa nel io ho iniziato notanissimo 1983 anche quello quindi esperienza esperienza da vendere quindi perché esperienza comunque ha un ha un gran valore grazie comunque per bacco c'è questo poi questo è il mio parere nel senso che se chiedi magari su qualche forum così ti vengono dati i pareri più discuti c'è chi dice che è inutile laurearsi c'è chi dice indispensabile dipende diciamo non è facile più che altro perché molte delle cose dipendono anche un po' da non si conosce la persona quindi la persona potrebbe essere come dire portata e quindi invece in alcuni casi magari la persona ha effettivamente voglia però magari è proprio negata e quindi però come dire con tutte le informazioni pubbliche che ci sono accessibili si fa presto la risata spero non sia per me e quindi funziona questo ah il sound alert perché c'è Streamlab che invece rompe le scatole e non lancia i meme però vabbè adesso guarderò che diavolo che diavolo ha che non va quindi dipende anche un po' è un po' soggettivo quindi ci sono però come dicevo parti dall'inizio fai un tutorial vedi cosa ti viene spiegato guarda se ci saldi fuori e in quel caso se lo vedi subito se le cose come dire ti escono ti escono bene oppure se c'è bisogno come dire un approfondimento se vedi grosse difficoltà io avevo l'idea di partire con una serie di live tipo delfi spiegato a mia nonna una cosa del genere però ci sto ancora pensando e magari il prossimo mese vedo perché quindi fare una cosa che parta da zero perché io ho guardato solo cos'era sta risata e poi mai guardare mai toccare vabbè tanto ci siamo qui apposta infatti mi piace Twitch per questo clima rilassato dove si può vedere un po' di cose ma anche in termini di stipendio vita sociale vita sociale ah ma vai tranquillo quindi anzi ci hai messo forse dei punti vita sociale si dipende un po' dall'azienda che trovi dove si lavora fino a tarda ora magari o anche meno dipende un po' dall'azienda come strutturata però generalmente gli sviluppatori sono molto chini sulla tastiera sempre perché ce ne sono pochi e c'è molto lavoro da fare spesso c'è anche un po' soprattutto in certi ambienti dove magari i pianiati sono un po' avulsi dalla complessità poi di sviluppare certe cose testarle ed essere sicuri che funzionino dove i tempi vengono un po' accorciati e spesso la qualità viene lasciata infatti vediamo un po' queste cose anche stasera di leggibilità del codice perché ci proprio per cercare di darci una mano per chi usa questo linguaggio per vedere diversi modi di fare le stesse cose ed evitare magari di incappare come conosci il ragazzo programmando molto dura perché tutti gli eventi in realtà adesso le cose stanno cambiando quindi comunque direi che non è il mestiere giusto anche perché no vabbè a parte gli scherzi adesso le cose stanno un po' cambiando ciao m.m sviluppatore front-end forse o magari benvenuto o benvenuta a seconda del dicevamo no però effettivamente quello è un problema nel senso che adesso sta un po' cambiando la storia però come dire ragazze impegnate nel coding diventarsi sedmi esatto vita sociale infatti la vita sociale è meglio non parlarne come dicevo molte ragazze sono la presenza di figure femminili è sempre stata un po' stigmatizzata perché ne conosco diverse che fanno proprio sviluppatrici e in ambito universitario eccetera diciamo hanno assistito a delle scene dove magari i prof davano per scontato che non fossero in grado una cosa ovviamente assurda questa di fare il lavoro perché tra virgolette non lo ritengono un mestiere da donna una cosa totalmente ovviamente fuori fuori dal mondo eccetera però si c'è un po' di ostracismo però stanno un po' emergendo comunque anche ragazze che fanno questo mestiere che creano delle iniziative per far capire alle ragazze che questo non è assolutamente vero perché a volte magari lo si dà un po' per scontato e quindi incentivano creano degli eventi mi viene in mente Django Girls ci sono dei gruppi dove insomma vengono creati apposta per coinvolgere il più possibile comunque anche la parte femminile in questo in questo lavoro che non ha nulla ovviamente se è surdo pensare che sia un lavoro da maschi anzi poi quando si arriva a guadagnare intanto io ho un'azienda mia con un paio di soci faccio spesso consulenze quindi diciamo che agli inizi c'è un po' lo scoglio iniziale però ripeto se hai passione o ad esempio a me piace il Java ecco il Java che viene ultimamente lo vedo un po' considerato come qualcosa di sorpassato e vecchio ma mi sembra un po' eccessivo perché comunque è dappertutto nel senso che molti sistemi di back-end lo utilizzano viene usato come linguaggio anche nello sviluppo mobile se non come compilatore almeno come linguaggio quindi in generale però come dire io non non farei la guerra dei linguaggi perché molto spesso se devi farti assumere o comunque cerchi lavoro cioè l'importante conoscerne una un po' come conoscere le lingue più ne conosci meglio è comunque conoscerne qualcuno a meno che li escludo per principio che non sia Visual Basic 6 per dire però C++ che sia C Sharp che sia Java che sia anche Delphi poi in realtà perché posizioni aperte c'è il gruppo Facebook Delphi Club Italia che ogni tanto come dire lo sponsorizzo su questo canale per incentivare un po' gli sviluppatori a partecipare cioè ci sono comunque posizioni aperte l'altro giorno cercavano 10-15 sviluppatori 3 qualche giorno fa la prima parte di posizioni aperte sono in Java java.net cioè sicuramente c'è una parte che domina il mercato però appunto sono tante posizioni aperte però non è detto che Java nuovo COBOL sì questo è un po' quello che si però mi sembra un po' mi sembra un po' riduttivo come dire ingeneroso nel senso che una volta studiato come dire con Java ci si fanno un sacco di cose quindi nessun linguaggio secondo me ad oggi può essere decretato a meno che non lo voglia il produttore come fuori totalmente perché se ci puoi fare qualcosa ed è come dire funzionale in un contesto ha un suo senso di esistere poi ovviamente la mia idea è quella di scegliere ovviamente la cosa più adatta che si adatta meglio a quello che poi bisogna realizzare cioè se tu mi chiedi di fare ad esempio un'applicazione desktop o mobile cross platform io uso Delphi e non uso non uso altro e i motivi tra l'altro li abbiamo spiegati in una live che è ancora qua su Twitch ma c'è anche su YouTube sfatare i miti su Delphi perché rispetto a soluzioni ad esempio tipo Flutter o simili ci trovo molti più vantaggi rispetto a quelli che offre questa piattaforma che tra l'altro poi è nata adesso ma con Delphi applicazioni mobile destro si facevano già a inizio 2000 2000 e qualche 2000 e 12 eccetera mi spieghi perché tutti vogliono diventare programmatori e non si sedminino ma in realtà si sedmino bisogna vedere cosa si intende perché se quello che devi installare è la roba così io in realtà vedo pochi che vogliono diventare programmatori vedo più gente che vuole fare program manager o il capo ufficio cioè vedo molto più gente che spiega come dire agli altri cosa deve fare piuttosto che mettersi lì e scrivere il codice quindi a meno di un certo per cui io come esperienza vedo più il contrario in giro come però vabbè la mia esperienza poi vedo un po' di aziende anche limitata e secondo me comunque gli sviluppatori ce ne sono e se ne trovano però come sempre li posso portare solo quello che vedo e nei limiti delle aziende che bazzico ogni tanto ma chiunque dice poi cose diverse perché dipende un po' esatto concordo con Vision sulla questione delle librerie cioè più che altro nel linguaggio alcune sintassi sono molto similari quindi impararsi ad esempio Visual Basic.net o C Sharp non è al netto di conoscere la sintassi non è un problema se non il fatto che ad esempio ho familiarità con Java e lì c'è un framework che è diverso ha molte similitudini perché vale sempre lo stesso discorso una volta però che ne hai visti due o tre o quattro e ci hai fatto qualcosa in giro trovi cioè quando vedi altre cose mi è capitato di studiare Python da zero ad esempio su alcune cose quando leggi leggi la sintassi quando ti viene detto un concetto si parla di classi si parla di metodi si parla di scope si parla di una serie di elementi attributi decoratori hai almeno come dire almeno già un altro contesto dove l'hai trovato quali linguaggi come si diceva prima contano poco ma direi che ad oggi Python è molto in crescita JavaScript sicuramente abilitante perché c'è chi sviluppa frontend ma sviluppa anche mobile io non lo userei perché non mi piace l'idea di usare un linguaggio da incapsulare in un server web da far girare in un browser aperto dentro un device ad esempio mobile cioè preferisco usare Delphi o preferirei usare qualcosa di nativo anche Flutter qualcosa che che crei un ex cioè un eseguibile e non però ovviamente cioè la tendenza è un po' quello di conosco il martello vedo chiodi dappertutto cioè bisognerebbe rimanere sempre un po' elastici però è chiaro che se ti fai oddio assembler secondo me se ti fai Python e JavaScript a scelta o Java dot net qualcosina però tutto conta sì poi c'è c'è Go c'è c'è Kotlin ce ne sono un sacco tutti dipende anche cioè se devi far assumere ovviamente queste sono un po' le proposte che che troverai se devi sviluppare in proprio il suggerimento è più quello di vedi quello che può accorciare il più possibile i tempi a seconda di quello che sì anche TypeScript è molto in crescita è ingloba JavaScript però lo cambia molto quindi diciamo che JavaScript andrebbe conosciuto in quanto alcune cose TypeScript un po' particolare perché annetto di aggiungere i tipi a JavaScript ci sono una serie di costrutti che è fantastico perché a volte non so devi accedere a una proprietà se fai un if controlli che c'è allora puoi accedere e lui te la compila altrimenti c'è tutta una serie di condizioni dove ciò che riesci a compilare dipende un po' da ciò che fai prima è un linguaggio che sta assumendo delle formule molto particolari al netto di portare tipi in JavaScript diciamo che conosci il JavaScript ti abilita una serie di cioè TypeScript ha bisogno del suo transpiler quindi sei in un contesto abbastanza specifico è vero che comunque ovunque tu possa usare una versione moderna di JavaScript quindi escludendo direttamente l'esecuzione nel browser che non sia transpilata se hai bisogno di transpilare puoi usare quasi tranquillamente TypeScript laddove usi JavaScript è quello quindi ci sta la sì TypeScript è molto amato TypeScript è creato da tanto creato da Andrej Eisberg che è anche creatore di Delphi e di C Sharp quindi le similitudini che ci sono in giro sono andate dal fatto che è la stessa persona sono nate tutte queste è uno che è bravo a scrivere linguaggi non c'è niente da dire su quello alla vostra tenera età sì l'Assembler allora io ho ritrovato un listato Assembler che feci alle superiori che praticamente era una chat via seriale per collegare due PC e tu chattavi scrivevi in uno e compariva nello schema dell'altro e l'altro faceva il viceversa ho questo listato è un Assembly io lo leggo e non capisco cosa c'è non so più quello che fa non sono più in grado di interpretare la sintassi al suo tempo mi ci divertivo un sacco con funzioni a parte che c'era il DOS e quindi era una cosa un po' diversa ma in questo caso non riesco più a leggerlo è come come se non avesse senso quello che leggo e quindi dopo che non usi un linguaggio per tantissimo tempo te lo scordi proprio alcune cose sì ce le ho in mente ma non abbastanza per poter fare qualcosa in C++ ad esempio l'ho fatto dei driver o dei software per dei pause una volta mi è capitato solo che avevo fatto questo programma che stando al produttore era anche ben scritto ma glielo mandava in confusione e non funzionava e non sono mai stato in grado di dirmi dove fosse il mio errore quindi però prevalentemente ad esempio io uso javascript Delfi C Sharp vabbè SQL tutti quelli correlati per dunque direi che si è fatta una certa anche su Nilla io penso dalle 9 dopo aver lavorato tutto il giorno come domattina mi aspetta un corso C Sharp un'altra giornata lavorativa intanto direi che possiamo intanto passiamo a un'altra videata così ci togliamo il codice dalle scatole però sì è stato interessante interessante un po' anche vedere chi si affaccia al mondo del lavoro un po' come come approccia le domande quindi io comunque suggerisco sempre di di provarci di testare di vedere un po' no sì sicuramente l'assembler cioè fatto fatto quello capisce esattamente come dire quello quello che succede anche quando lavori a un livello più alto però diciamo se uno non è esperto di programmazione partire con quello cioè una questione è capire se uno ne vuole fare un mestiere quindi ha degli anni di esposizione e ha un percorso oppure cioè se vuole provare cioè se deve produrre qualcosa di funzionale cioè funzioni al netto poi di raffinamenti e di col tempo come dire schillarsi come si dice in inglese perché con con Delphi ad esempio ma anche con C Sharp o con con Python qualsiasi linguaggio qualcosa lo ottieni anche sapendo pochino cioè o comunque sapendo i primi rudimenti è chiaro che se poi hai un team di sviluppo devi iniziare le cose iniziano a complicarsi più cose sai più i problemi anche nuovi riesci a capire di cosa si tratta e riesci ovviamente a risolverli quindi però sono dell'idea come per Atatouille che c'è lo chef parigino sono dell'idea che chiunque possa programmare tranquillamente e con certe informazioni riuscire in in un tempo breve a produrre qualcosa che abbia un valore sul mercato e che possa essere un software anche spendibile poi chiaramente dopo lì il resto l'approfondire altri linguaggi il farsi un'esperienza completa dipende un po' da soprattutto se una persona giovane da cosa poi vuole andare a fare e su cosa si vuole focalizzare cioè quello è un po' il concetto grazie valerio per i contributi preziosissimi direi diamo un'occhiata se c'è qualcuno che magari può valere la pena raidare come si usa in che è una cosa bella di twitch direi il più dando un'occhiata in giro ma direi che almeno di tecnico vedo non vedo molti quindi direi che però vedo che c'è la Shioradana che sta giocando a Encodia che ha un nome che ha un nome c'è anche emulare che passione quindi Albe Giannone la live più noiosa no questo non mi attira se è scritta la live più noiosa beh comunque potremmo fare un un ride a Adana così ah forse c'era qualcosa da completare che non ho completato ok niente vedevo una cosa in chat che non non c'entrava un ride da signora Adana così si sta ancora giocando ma questo orario direi che si forse è iniziato da poco e grazie di nuovo per chi è stato presente chi è arrivato chi ha lasciato il follow e tutto poi ci ci aggiorniamo trovato ovviamente nella pagina del canale riferimento a youtube per i video vecchi poi c'è i miei link canale telegramme varie per gli aggiornamenti le future live eccetera se ci sono poi argomenti di cui volete parlare anche i miei contatti così magari appunto se qualcuno inizia vuole fare un percorso che magari potrebbe essere interessante affrontare qui su librerie su linguaggi eccetera poi se li conosco si potrebbe anche valutare potrebbe essere anche una cosa interessante per più persone e quindi li potremmo anche valutare quindi come diceva Gerry Scotti a suo tempo non andate via che prepara appunto il mitico il mitico ride e vi ringrazio di nuovo e direi arrivederci alla prossima ciao a tutti e grazie ancora alla prossima grazie a tutti